Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per giocare a Dows of Ashes, terzo capitolo della Dark Pictures Anthology. Innanzitutto buon Halloween a tutti voi e un salve alla chat. Vedo che siamo già tantissimi oggi, molto molto bene. Ovviamente questa puntata, come gli episodi precedenti della Dark Pictures Anthology, verrà pubblicata sul nostro canale principale di YouTube al termine. Oggi giocheremo una run completa, quindi vedremo il gioco dall'inizio alla fine. Sarà una diretta bella lunga, che spero, insomma, possa divertirvi e intrattenervi come è stato per gli altri anni. Ormai trovarsi qui ad Halloween è una tradizione. Ciao Aldo! Uh! Gray! 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 Ma che piacere vederla qui! Buongiorno! 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 Salve a tutti! Attenzione gli spoiler si banna one shot! Esatto! Ciao Henry! Comunque, un saluto a tutti ragazzi! Ciao a Mari Chicca! Ciao a Big Sister! Ciao a Vince! A Marco! A Pistacchio che è già sul piede di guerra contro gli spoiler e questo va benissimo! Un salve a Leg! A Iblis! E a Bob Rock! Benvenuti, benvenuti ragazzi! Un salve anche ad Aldo! Ad Aldo, benvenuti! Ciao Emiliano! Ciao Emiliano! Bene, bene, bene! Bellissimo il template del video, dai, sono molto contento! Vi chiedo prima di partire se si sente tutto bene, se audio del gioco e la mia voce sono ben bilanciati Bellissimo il video, Gray! Infatti sono contentissimo che ci sia Gray! Speriamo riesca a seguire che la connessione non lo tradisca La tua voce è a posto? Il gioco non riesco a capire, forse perché in effetti siamo ancora nella schermata principale Alzo un pochino, alzo un pochino perché in effetti era basso Ok, allora, House of Fascists In questa nuova iterazione della Dark Pictures Anthology andremo a scoprire una nuova forma di terrore In questo caso l'avventura è ambientata in alcune caverne barra sotterranee che si trovano dalle parti dove un tempo sorgeva la Mesopotamia Ci troveremo a fronteggiare creature antiche, sepolte da millenni e vedremo come sarà I protagonisti sono dei soldati che sono alla ricerca di risorse, da quel che ricordo, nei fondali di questo posto Vedremo come sarà Io devo ammettere che l'idea di per sé non è che mi faccia impazzire, però bisogna vedere come sarà eseguita poi all'interno del gioco Di cui ho sentito comunque pareri piuttosto positivi Certo, mancherà quella componente psicologica presente in Little Hope, capitolo precedente che mi è piaciuto molto E avremo meno a che fare con leggende antiche come accadeva invece con Man of Medan Ogni volta che ti vedo sembri sempre più anziano Ma che dici, non è vero? Beh sì, i capelli sono sempre più bianchi Ciao, ciao Ricky Buongiorno, buongiorno Ciao Dev Ciao Dev Cosa ne pensi del fatto che oggi lo spirito dei capelli di Lucette riprende vita? Penso che è molto male tutto ciò È molto male Ok, buon pranzo, pistacchio Buon pranzo, buon pranzo Ragazzi, direi che possiamo cominciare, dai Abbiamo già parlato abbastanza Io giocherò da solo perché sono Forever Alone E non ho un amico con cui giocarlo oggi Quindi giocherò io e basta Come è stato per gli altri capitoli della Dark Pictures Tra l'altro ci tenevo a precisare che questo è il terzo di quattro Saranno quattro i capitoli che andranno a formare la prima stagione di questa serie L'ultimo ovviamente in uscita l'anno prossimo Che si chiama The Devil Inside Una roba del genere Comunque vedremo il trailer alla fine Purtroppo in tanti noti siti me l'hanno spoilerato Quindi avrei voluto scoprire alla fine del gioco che cos'era Ma già ho visto più o meno di cosa si tratta Tutto bene Dev, tutto bene, tutto bene Tutto a posto, tutto a posto In realtà i capelli bianchi sono tutti Al fatto che Fedro ha confuso il genere Oh Grey Sei proprio tornato Sei proprio tornato E questo mi fa estremamente piacere Ai noi Messer Fedro Infatti, infatti Gioco da solo qui Ma in realtà ci siete tutti voi a farmi compagnia Che è la cosa più bella di tutte Comunque, dai Vediamo come sarà questo terzo capitolo Di questa antologia Allora, storia in sigla Maledizione a CAD A CAD penso che sia il nome di uno dei protagonisti Anche qui, come sempre Le scelte influenzeranno il proseguire della storia Ha i capelli bianchi Perché sta mascherando l'ultraistinto Uh bene Cominciamo già con la batteria del pad Che si sta per scaricare Allora Mettiamo subito in carica il joystick Che almeno non rischiamo di rimanere a piedi durante la storia Ecco, anche qui saranno presenti numerosi QTE Come è classico in questa serie E cercheremo insomma di affrontarli al meglio E di far sì che sopravvivano tutti i protagonisti Adoro come Grey scriva cose assolutamente perfette per l'ora di pranzo Ma Grey è sempre così Grey è sempre così E a noi piace così Ciao Nicola Ciao Nicola Lascia arrivare così o va cambiata No, pensavo di tenerla così la scena Se non vi piace Cioè, ditemi se vi piace o meno Allora, dai Nuova storia Via Agevole Impegnativo e letale Allora La sopravvivenza è possibile Un'attentica sfida La morte è certa Giochiamo ad impegnativo Dai Ah, mi fa già salvare Va bene Si crea già il blocco all'inizio E poiché hanno seminato vento Raccoglieranno tempesta Osea 8-7 Ogni scelta Ha una conseguenza Alcune decisioni Salvano la vita Altre Conducono alla morte Scegli attentamente Non ho mai giocato San Rancagura Purtroppo Anche lei Beh Cominciamo Alla grande Accad 2231 Avanti Cristo Quindi siamo Questo è un antefatto No Non voglio morire Silenzio Il tuo parlare è inutile qui Il nostro re Pretende un tributo di sangue Scusate un attimo Metto i sottotitoli Pensavo li mettessi in automatico Però almeno Riuscite a vedere anche voi Sottotitoli Tutti Perché Non vorrei che poi Sfuggisse qualcosa Ok Torniamo al gioco Scusatemi Tuo sacrificio Tuo sacrificio infrangerà la maledizione Generale Perdo Signore Il re richiede La vostra presenza Gli dei ti arridono Per ora Riportalo in cella Me ne occupo dopo Sei fortunato Strano vedere un'ambientazione così Però In un gioco supermassive Dovremmo andar via da qui Ciao big sister La sua follia Minaccia di ingogliare anche noi Questo tempio E' maledetto Morirei in questa dimora nefasta Piuttosto che cedere a morbo e carestia Togli ordini capitano Grazie big sister Grazie 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 per L'abbonamento Gentilissima Ti mando un abbraccione Grazie 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 Il dio luna ti ha inviata A distruggere il mio regno Io lo so ragazza Io vedo ogni cosa Guardati intorno Questa sala non basta Ripagare i miei errori E gli dei non si beano Della sua gloria Arriva nel guttei generale Il dio luna ha inviato Un esercito contro di noi Raduno immediatamente le truppe Bene Dai sotterranei Abbiamo centinaia di prigionieri Miore Per i sacrifici serve tempo Il tempo ormai ci sfugge tra le dita Fa nulla Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati Il sacrificio verrà compiuto Cominciando con lei Dimmi generale Per caso ti ricorda qualcuno? Miore Non coglie una lieve somiglianza con tua figlia? Quanti anni avrebbe adesso? Diciotto Diciotto Questo morbo è stato una sciagura Uccidila Ah Devo già fare una scelta all'inizio Se ucciderla o meno Kurum Obiettivo attuale Fai rapporto al re Ok Voglio vedere un attimo Il menu Moralità Allora probabilmente Questo personaggio Balatu Non Non sarà uno dei protagonisti Ma è uno di quei classici Personaggi che utilizziamo nel prologo E che poi scompare Sappiamo che è tipico Nelle avventure di Supermassive Farci utilizzare un personaggio Nella primissima parte di gioco Che poi però non farà parte Del cast principale Un po' per introdurci A quello che è l'antefatto Di tutte le vicende Che vivremo dopo L'anticipazione della morte Peggiore della morte stessa Ciao Cosmos Benvenuto Benvenuto Kotalcan Uccidi subito senza esitare Ma no ma poverina Poverima C'è scritto Marco House of Fascists Della Dark Pictures Anthology Scusa Petro Come hai iniziato? Hai appena iniziato Ci sono Siamo nel 2200 avanti Cristo E stanno accadendo cose Adesso vedremo meglio Non ci siamo persi niente Ancora Sconfitto Indignus Grande grande Non conosco il gioco Ma sicuro faranno morire tutti No Sarà a noi la scelta Bob Rock Saremo noi A A far sopravvivere A far morire i protagonisti La storia andrà avanti Anche se uno dei protagonisti Morirà Questa è una delle cose tipiche Di questa Di questi giochi di Supermassive Comunque andiamo avanti Io direi Starei riluttante Miore Non sarebbe più saggio Tenerla in me Eh È una spia nemica Può svelare i piani Dei Gutei No Ogni singola goccia di sangue Ci avvicina alla salvezza Lei Deve Morire E infatti Premi come indicato Prima dello scadere il tempo Ok Partiamo già con un bel QTE Vai Abbiamo esitato E la situazione Sta giocando A nostro svantaggio Penso che sarà abbastanza crudo Questo? Oddio Vabbè Mamma mia Chissà se l'avessi lasciata scappare Se accadeva qualcosa di diverso Ah e si è per difesa Io ero convinto che stiamo giocando Il magico mondo di Laura Della Playboy Great Fatality Sì sì E come Una super fatality Vabbè Adesso accanirsi Mi sembra anche un po' eccessivo Sì 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 Beh Le ha preso La testa Mamma mia Mamma mia Diciamo che le scene di morte Nei giochi supermassive Sono davvero tanto crude Bellaccio Sono sempre abbastanza crude E disturbanti Mi ricordo anche all'inizio Di Little Loop Dove morivano tutti Nella casa Incendiata Era abbastanza Lasciava abbastanza l'angoscia Sicuro è stata una bea botta Eh sì Eh sì Quindi cambiamo personaggio adesso Questo è proprio un faraone Comunque Ad occhio Un signore antico No bea mi piaceva Mi piaceva perché era molto veneto Iblis Che strano però vedere scene del genere In un gioco Supermassive È la prima volta che Un'ambientazione storica viene riprodotta da loro Quanto le costine e i ceci Arriva va bene Grey Ti aspettiamo Sì sì Impero babilonese Ma dovremmo essere in Appunto in Mesopotamia Sì sì Bea È È venettissimo Iblis Però devo dire che come Incipit È fatto piuttosto bene È fatto piuttosto bene Accadice Siamo nel sud Della Mesopotamia Dei datemi la forza Ma questo è Curum Non mi sono perso Vedo che ti da Oh no 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 Assolutamente no È dovuto incenerire casa Cioè Il re è morto Viva il re Ma c'è un'eclissi? È un'eclissi Solare Via che ci siano delle creature fuori Abbastanza pericolose Ciao Mav Ciao Mav Buongiorno Qua livello di animazione È fatto molto bene Sono sempre più Più bravi Sono sempre più bravi Quindi super massi C'è niente da dire Ciao Pairo Tu accadici per scatenare tale potere Siamo maledetti Il nostro re ci ha condannati Credevamo voi i demoni Ci sbagliavamo Il re ha vuotato il tempio a Nippur E ha eretto questo Per chiedere perdono Ma gli dei non ascoltano E in questo momento Anche perché da morto È difficile che possa parlare Eppure la morte di mia figlia Mi ha aperto gli occhi Ah Balatu e Kurum Balatu sembrava sollevato Per la morte del re Eh beh grazie E infatti Già il fatto che potesse dubitare Prima se uccidere o meno la spia Fa pensare che Balatu Non fosse proprio d'accordo con il re C'è una via d'uscita nelle catacombe Perché dovrei fidarmi di te Ciao di Tempest Benvenuto Baccadico Aspetta Sì sì Le teorie assolutamente le potete fare Le teorie sul gioco le potete fare Anzi Sarà interessante discuterne assieme L'importante però è che non sappiate come va avanti Quello sì Cioè se l'avete visto anche da altri Non scrivete cose che possono Essere spoiler Ok Va bene va bene Mi sa che Ho già un'idea di dove andrà a parare questo prologo Che poi vabbè I personaggi possono morire in modo diverso Però sì Insomma Evitiamo Evitiamo gli spoiler Avete Licenza di ban Neanche di sospensione Se uno arriva e spoiler In maniera bastarda Siete Autorizzati a bannare diretti Guarda che si fa a finire come Man of Medan Ah è vero che tra l'altro Avevo barato in Man of Medan Perché c'era stato un bug C'è qualcosa che striscia Ok Ok Bene Hanno mantenuto anche Questa meccanica Già presente nei capitoli Precedenti Quella che serve A mantenere la calma Ok C'è effetto Tanto la sorte di questi Ci interessa poco Muore Krillie Ok No ho sbagliato Azz Promuto troppo presto Aia Era solo un ratto Vabbè Un accatico Che ha paura di un topo Adesso le ho viste tutte Secondo me non c'era solo un topo Per nulla Sono morti in vano Per un re folle Ok Quindi questo è praticamente un tutorial Ci insegna le meccaniche base Del gioco Sì sì stiamo più concentrati Stiamo più concentrati Big sister Ok Tieni premuto R2 Per raccogliere oggetti Usa R per esaminare Alcune interazioni rivelano segreti I segreti scoperti Possono essere visualizzati Nella schermata Collezioni e personaggi Anche questo È un È una meccanica Che era già Presente appunto Nelle interazioni precedenti Della Dark Pictures Anthology Compreso anche Until Dawn Che è un gioco vabbè A parte ma comunque Sempre degli stessi sviluppatori Ok Non ha nessun segreto Questo Schifo Scarafaggione Io voglio vedere Cosa succede a loro due Eh lo vedremo Lo vedremo Ok Cominciamo a esplorare Allora R per orientare E visualizzare Le fonti Di luce Ok Cos'abbiamo Potrebbero esserci Informazioni nascoste Ci siamo maledetti Con le nostre mani Perché il tuo re Ha razziato il tempio È la stessa storia Che si ripete Per loro La gloria Veravidità Si sente bene ragazzi Ditemi se l'audio è buono Voglio essere convinto Cioè voglio essere Insomma Ho detto Convince da pistacchio Ho detto convinto anche io Voglio essere sicuro Che fosse tutto a posto All'unvento Il doppiaggio italiano Mi convince poco Sinceramente Non sento emozione Si in effetti Non è granché In effetti Non è granché Sono d'accordo Eh Ok Sembra bilanciato Perfetto Qui Lo sappiamo Un'antica tavoletta Che ci mostra Il futuro Sono le solite premonizioni Che ci mostrano Eventi futuri Questi qui Comunque Da quel che ho Capito Da quel che immagino Questo re ha razziato Un tempio In cui Erano nascosti Antichi segreti Probabilmente creature Malvagie Venute dall'oltretomba Vedremo Vedremo Sono piuttosto curioso Anche se ripeto Non è il tipo di ambientazione Che Fa per me In generale Cioè io non amo Questo tipo di ambientazione Però Vedremo poi Come si svilupperà La storia Assolutamente Non Non giudico in base Solo al mio gusto Anzi ci mancherebbe altro Cercherò sempre di dare Un parere distaccato Su quello che vedrò E che vedremo Insieme Qua non c'è niente Questa è la stessa Di prima Sì Credo di sì O no Sì sì è la stessa Ok niente Basta Abbiamo già visto Quello che c'era da vedere qua Apriamo la porta Allora a questo punto Vieni Aiutami qui Ha risvegliato cose Che non dovevano essere risvegliate Esatto esatto Big sister Esattamente Esattamente Va prima tu Qui è sicuro Prima Tu Sì in effetti Il doppiaggio Non è che sia brillante Devo Devo essere d'accordo Con pistacchi Cos'è l'oggetto Crossgeno Ovviamente Ovviamente Però noi stiamo giocando S5 Voi a Cadici avete lottato Per distruggere il nostro popolo Ma ricorda bene La nostra storia È appena iniziata Come possiamo uscire Vivi da qui Vabbè Cerchiamo di rispettarci Il nemico del mio nemico È mio amico Sì dai Alleiamoci Siamo in una brutta situazione Diciamo che il legno matutino Di questo regno Era solo il legno E non solo quella mattina Sì sì Si vede che è crossgeno È vero È vero Però le animazioni Sono fatte piuttosto bene Devo dire Almeno durante le cazzine Volevo solo vedere Per curiosità Se c'era Un'impostazione grafica Ah Qualità o prestazioni Vediamo un attimo Ah Si può tenerlo anche a Cos'è stato? A 60 frame Però Essendo molto cinematografico Ragazzi In questo caso Andrò su Sulla qualità Perché tanto Non è un gioco In cui ci interessa Avere i frame alti Stiamo sui 30 Però può andare anche a 60 Almeno su PS5 Non siamo solo Infatti sento Dei rumori Poco rassicuranti Ah no E la musica Questi fossero dei rumori Di qualcuno Che batteva Detto questo Vi sarà tutti Cutie Possibile A causa dei frame Sì certo Lo alzo ancora un pochino Va benissimo Big sister Certo Siamo ancora un po' Così almeno Sentite bene Anche se qui Non è Non è altissimo Va bene Sì sì ho capito Che mi devo muovere Giò Non c'è bisogno Che mi metti l'ansia Ok Ehi qui No ma i cutie In realtà contano poco Con i frame No Nicola Non è Non è assolutamente Next gen Il capitolo precedente Uscito solo per PS4 Era così Graficamente Se guardi le texture Siamo ben lontani Dalla next gen Via Sì Via subito Vai 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 Veloce 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 Mamma mia Che artigli giganti Lo so Accadico Ho un nome comunque Non c'è scappo Bene Restare uniti È l'unica speranza Adesso inizia la fight Se fuggiamo entrambi Moriremo in due Pronto Ciao Arson No combatto Dai Non lo tradisco Non lo tradisco Anche se andrò incontro a morte certa Non mi va di tradirlo Mi sta simpatico Spada e scudo Uh Pokémon Tra l'altro Non vediamo il mostro Vediamo la sua visuale Ma Dai Dai Balatu Vai Ok Vai Mamma mia Sono velocissime In QTF L'ha respinto Ah È stato ferito Però È stato ferito Non vedo Pokémon Ah Il nostro caro amico Guteo Se n'è andato Direi che è finita molto male per entrambi È finita molto male per entrambi Ma sappiamo bene Che i protagonisti Dei prologhi Dei giochi supermassive Non sono altro Che carne da macello Ciao Ciao Drake Ciao Alex Buongiorno 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 Tutto bene Grazie mille Da Di poco Di poco Di poco Sei in ritardo di pochissimo Ti sei perso il prologo Detto questo Se non sono troppissime le scelte Voglio la curiosità della chat Ad ogni scelta Certo Ciao Landone Ciao Landone Benvenuto 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 Ciao Cyrus Mi sono abbonato poco fa il canale Ma stranamente non ha mostrato il messaggio Che avevo scritto Grazie mille Cyrus Ma non è comparsa mica la Non è comparsa la La solita Non è comparso l'alert Comunque grazie mille Grazie mille Grazie mille Tranquillo 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 Anzi goditi anche tu House of Fascists Magari poi ne parliamo in una futura live Volentieri Volentieri Colazione con pasta Cyrus Prova a riferirciare di nuovo Vedessi di nuovo il mostro L'abbonamento Strano però che non sia andato Mi dispiace che non sia andato a buon fine Comunque Sì è vero I protagonisti sono carne da macello Sono Sono carne da macello E muoiono in In continuazione Lo sappiamo bene Comunque 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 Direi che Io ho scelto Combattuto Il nemico del mio nemico Il mio amico Beh sì sì ma ci sta Ciao Ricky Ciao Ricky Benvenuto 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 Benvenuti a tutti Ragazzi Benvenuti a tutti Di strano però che non abbia dato l'alert Dell'abbonamento Mi dispiace Mi dispiace che non sia uscito Ti ringrazio comunque Cyrus Ti ringrazio tantissimo Hai fatto bene a dirmelo Poi verifico Che sia andato tutto a buon fine Grazie 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 Ok Detto ciò Possiamo andare avanti L'unica cosa Pistacchio Se riesci per i sondaggi Metti Mettili di un minuto Perché se no Durano troppo Non altro perché non è partito il messaggio Però sembra stato No infatti è strano Sì È strano sì Poi verificheremo Ok Va bene Balatu è stato l'ultimo a morire nelle catacombe del tempio E detto ciò Si va Sigla Dove rivedremo Un personaggio a noi carissimo Ossia Il Curatore Colui che ci narra ogni storia Si è bella questa intro È vero è vero è vero Molto bella Piace anche a me Marco ti chiedo se è possibile di limitare i discorsi su Dragon Quest Visto che è una live su un'altra cosa Se no finiamo sempre a parlare di Likun Passo un pochino che adesso è alto eh Eccolo qui Guardatelo in tutta la sua figaggine Pol Zinno Cristo no è ragno Fa culo Arachnofobia E come Avrei modo di scoprirli Ci sono tutte le live intere degli altri due Sul canale YouTube Sì vorrei salvare anch'io tutti Adesso inciampa Sarebbe bellissimo Tranquillo Marco tranquillo Nulla di personale ovviamente Però un po' per cambiare discorso Perché se no si finisce sempre a parlare di Q Combatti avreste scelto Ma tra l'altro Le immagini qua dietro Sembrano riprese dai capitoli precedenti Questo qua infuocato chi è? Comunque il vero protagonista è lui Lui che ci racconta ogni storia Infatti i creepypasti di Q Oh rieccoci per il nostro appuntamento attuale amico Eh annuale amico Delle tue scelte La volontà è una bussola Che guida nei retossi del mignoto Troverai la via per la salvezza O ti perderai nelle tenebre del serpale Non voglio mentire Il futuro riserva decisioni difficili Decisioni che influiranno sulle vite altrui Gli esiti di queste scelte saranno chiari Col tempo Grazie Grazie Cyrus Grazie mille Grazie mille per l'abbonamento Gentilissimo 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 Strana la prima volta non ha funzionato Forse avevo scritto un messaggio troppo lungo Comunque volevo solo dirti ciò che ho scritto nel messaggio in chat Buon Halloween a tutti Grazie Cyrus Grazie Ti mando un abbraccio Grazie mille per la sub Grazie Grazie Gentilissimo Ok Basso il volume dell'alert Ok lo alziamo un po' allora Ve lo alzo immediatamente Così Dovreste sentirlo meglio Va bene Torniamo al gioco Dove ti trovo? Io sono il curatore Il custode dei racconti Il mio compito è tenere traccia di tutto ciò che accade Delle scelte fatte E degli avori Commessi Questo è il mio personale archivio Sì Qui c'è un filtro sulla sua voce Amici e nemici Lealtà e tradimenti Vita E morte Deve capire Che non sono qui per aiutarti Tuttavia Non disdegno le eccezioni alla regola Ogni tanto Scendere da soli nell'abisso È un atto di estremo coraggio O estrema follia Ma alcuni animi nascondono sorprese Mi permetto di dare un breve consiglio Le sabbie del tempo Le usate tutte Il principe di perse Ok Comincia l'avventura Comincia l'avventura No non l'ho giocato Alex Iraq 2003 Quindi Andiamo 18 anni nel passato Rispetto al nostro Attuale presente E un po' di anni del futuro Rispetto al prologo del gioco I protagonisti sono dei soldati Jason Kolcek Primo tenente forze di connessione USMC Fiducia e intolleranza Eric King Tenente colonnello USAF Razionalità e insicurezza Non del tutto Benvenuto a Camp Slayer È in anticipo Ehm Vabbè Non dico nulla È un po' insicuro Quindi tace I tecnici attendono il suo briefing Non appena il comandante Dà il via libera Possiamo iniziare Leggi questo Oddio Ha i Reban uguali ai miei Il tizio che rubina là dietro Non lo sapevi? C'è un nuovo rete Ah una tizia A quanto pare Tu sei? Ehm Vabbè Lei è la mia assistente La mia assistente Clarisse Stokes Dottoressa Clarisse Stokes Che questa mi sta già sui coglioni Primo tenente Dopo due frasi Bene La sala riunioni Mi sta già antipatica Lei sarà la prima che faremo morire No scherzo Cercherò di salvare tutti Gira bene Gira bene Alex Gira molto bene Se lei sniffate le sabbie Una data a caso Esatto Le Tempest Proprio a caso 2003 Rachel King Agente operativo CIA Autorità Causticità Questa mi sa che è la sorella di King Nick Kay Sergente delle forze di ricognizione Giustificazione e romanticismo Questa deve essere la nostra ultima volta Uh Dopo la sparatoria al checkpoint Muore 400 Nelle ultime settimane Tu mi hai dato forza Non so dove sarei senza di te Giustamente il telefono che interrompe Ah è la moglie Pensavo la sorella Moglie adultera Ha intenzione di parlargli di noi Tu ed Eric Siete stati lontani un anno Eh Lei si è consolata Troverò un modo per dirglielo Dai Avvi almeno le palle di farlo Ah Hai capito Esatto Baciami Stupido Ovviamente si inizia lì volando duro Sì sì ma Proprio la moglie adultera C'è poco che lui nel dirlo Hanno momenti stranissimi Sì in effetti Erano animati meglio nel prologo Anch'io dico Dottore Enrico Sono le persone che vi stanno in culo E infatti Ah Vedi un po' Abbiamo Una moglie adultera Tra i protagonisti Rachel King Non è il momento giusto Vengono beccati Mentre Non è ancora il momento Questo per dire Stiamo ancora preparando la base È incredibile Solo qualche settimana fa Sa Danza la spassava Eh infatti Data non a caso Data non a caso The Tempest Se solo vedesse Come è ridotto Questo poto È ironico Abbiamo la CIA Abbiamo l'esercito I marini La via L'aeronautica Non manca proprio Ah Prendiamo il controllo Del marito cornuto Benedetta America Wow Però le ambientazioni Sono fatte proprio bene Come al solito C'è Ci sono le bande nere Nel gioco Per dare Tutto un aspetto Più cinematografico La prima morì male Continua a darci dentro Beh un anno di distanza Lei con cui mi si è bennamorata Quello sì però Insomma Ma chi è È un piaccione Di quelli Senza ritorno Ma il problema Il problema Pistacchio È che I protagonisti Dei giochi Supermassive Sono per il 90% Degli stronzi Odiosi Che Non si può Che odiare Io veramente Sono forse i personaggi Più detestabili Che si possano trovare In un videogioco I protagonisti Dei titoli Supermassive Ma proprio perché Ricalcano un po' I b-movie di una volta I b-movie horror Di una volta In cui la caratterizzazione Dei personaggi Non è che sia Importante Qual è il suo Manico di scopa Nick è cambiato Ultimamente C'è stata una sparatoria Qualche settimana Con una vittima civile Nick Può combattere È un soldato Signore Può farlo No no ma infatti Ma anche negli altri capitoli Vista Vuoi che ci parli io? Non mi lamento Dietro una scrivania Ci si beccano Meno pallottole Questo è il famoso Tizio del satellite Dai King mi sembra Ma capo Spita Sembra Brad Pitt Visto così Da più giovane Il protagonista Pizz de merda In Until Dawn Avrei voluto sparare a tutti Si erano odiosi tutti In Until Dawn Avevi detto la stessa cosa Più o meno con Mind of Medan E anche con Little Hope La vecchia di Little Hope Mamma mia Quella era veramente Odiosissima Ma quanto è americano il corduto Americanissimo A me sembra Johnny Cage E' vero Caspita C'hai ragione C'hai ragione E' vero Cosmos E' vero che è Johnny Cage E' vero che è Johnny Cage Di Mortal Kombat Caspita E' uguale Allora Facciamo gli stronzi Dai Tenente colonnello Harry King E se non vado errato Vice caporale Questo mi rende Il tuo comandante Ma Piano La voce di King Mi sembra la voce di Alan Wake Mi sembra il doppiatore di Alan Wake Nella versione italiana Alessandro Zurla Mi sembra la voce di Alan Wake Anche perché ho giocato Di recente ad Alan Wake Mi sembra lo stesso doppiatore Signore Fosse in te Non mi abituerai troppo A quella scritta Si è la voce di Alan Wake Caspita E' la voce di Alan Wake Caspita Se è la voce di Alan Wake Quando la grande stronza Lo verrà a sapere Andrà fuori di testa E' mia moglie Si si facciamogli incazzati Si dai il caso Che sia mia moglie Non lo sapevo Mi scusi Complimenti Jenny La vecchia Mi ha detto di scopo in culo Speri che la vecchia Si lamentasse I miei libri Ricordiamoci La frase profonda Di uno dei protagonisti Di It Disse di avere il nome Da fine alzata Scritto sul pippo E' vero E' vero E' vero Usiamo il termine In senso Un po' affettuoso Si si Non c'è il doppiatore italiano Si si inglese Inglese assolutamente Pistacchio E' il doppiatore Originale Però il doppiatore italiano Credo che sia quello Di Alan Wake La voce è la sua Cavolo O ha una voce Molto simile Ok Spero anch'io Che la connessione rega Ok Cominciamo a esplorare Cosa abbiamo qui Logo Del comando Centrale Data 5 maggio 2003 Lascio parlare Loro Ok Adesso leggo Perché stavano parlando Non volevo sovrapporre le voci Ah E parte Ovviamente Un'altra roba C'è un'eclissi solare C'è un'eclissi solare Esattamente come accadeva Nel prologo Ok Non ho avuto il tempo Neanche di leggere con calma Ecco la cornificatrice Vabbè Facciamo Siamo i gentili Noi Avrei dovuto dirti Che era stato anticipato Colpa mia Ma Siamo in emergenza Non potevo aspettare Come comandante Della squadra Devo essere aggiornata Lo capisco Rachel Ma il comando Ha dato ordini precisi Mai lavorare Con la propria moglie O col proprio marito Comandante Non volevo che lo scoprissi così Sul serio Mi spiace Faccio molta fatica A crederci Ciao Gray Bentornato Mi serve accesso alla vostra rete Ti collego subito Nome? Dottoressa Stokes Puoi chiamarmi Clavis Dottoressa Stokes Iniziamo la presentazione Trovato qualcosa? Ok Peccato Avrei voluto esplorare Con più calma Finalmente La mia Nemesi No Mi dispiace Pyro Che cazzo è? Sembra arte moderna Ok I begge Sono immagini strettamente riservate Del programma Kelus Dovrei capirci qualcosa Kelus? Kelus? Non dovrebbe essere Celus Forse usa la pronuncia antica del latino Sistema satellitare termico Che ho sperimentato Oh Incredibile Prego Sperimentate Minchia Merwin Lo odio Ti comporti sempre così Ai briefing caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi Senza offesa D'accordo Le scansioni satellitari Della zona di guerra Hanno rilevato Un possibile deposito Sotterraneo Ovviamente La scoperta Richiede ulteriori indagini Ma nutro il forte sospetto Che contenga Le armi chimiche Di Saddam Ti abbiamo beccato Bastardo Il comando centrale Ci autorizza Ad attaccare la struttura E requisire Le armi presenti Le ostilità Sono finite Ma ci sono sacche Di resistenza repubblicana In tutto il paese Kelum Potrebbero usare Quelle armi In ogni momento Che ho pensato a quello L'esercito ci darà Un passaggio Nelicato Kelum O Kailum L'arrivo Il tenente Kolcek Guiderà l'assalto Alla struttura Conquistata Condurremo Un'ispezione Delle armi Ascoltate C'è stato Un cambio Al vertice Ma recce La resta Sodamentale Per l'esperienza Maturata sul campo E la conoscenza locale Lavorerà con noi Ed esigo Che le mostriate Il medesimo rispetto Qualche domanda Che cazzo Stiamo aspettando Forza Cercare le armi chimiche Nascoste di Saddam Mamma mia Mamma mia Che cringiaggine Di battute Ecco i dialoghi Dei giochi supermassi Sono sempre Trescissimi Ciao Laura Buon pomeriggio Buon pomeriggio Allora capisco di più La posizione del protagonista Prende il comando Di un'operazione Della moglie Senza dirlo Con una squadra Già stanca Eh 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 In effetti si Allora Fiducia Che con Jason Abbiamo un rapporto Orribile Ok Rilevamento Bussola Eric ha rifiutato Di coinvolgere Il supporto aereo Nella missione Ok va bene Merwin ha ragione Se facciamo alzare Troppi elicotteri Sarà facile scoprirci Se avete dubbi Ne parleremo dopo Non comunicheremo Fino all'obiettivo No no Con quella voce Di Alan Wake Ci scommetto Quello che volete Che è zurla Questo qui Di tutto Smettila di lagnarti Era solo per dire È per questo Che siamo in guerra Questo è il motivo Per cui lottiamo Ogni giorno Ve lo garantisco Signore e signori Così impediremo A Saddam Di usare quelle armi Pronti tra un'ora Andate pure Laura amore mio Grazie per i vittiri Laura Grazie 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 Così De molto Viva l'America Peccato Poi vedrò Joy mi sa che sei l'unico Che è un po' intelligente Alessandro Zurla 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 Peccato che lei Se la faccia Con un altro Ho sentito la tua mancanza Dai facciamo i gentili Con la moglie È passato molto Dal nostro ultimo incontro Così la facciamo Sentire in colpa Fammi finire Mi piace Le pisto Viva l'America Fare zumba Zumba Ogni giorno Ti ho pensata Ogni giorno Ti ho sempre voluta Al mio fianco Mi sei mancata tanto Mi spiace Laura Mi spiace Vorrei solo Che tutto tornasse Come prima Già all'epoca Le cose tra noi Non andavano Siamo stati peggio Molto peggio Non è cambiato nulla Eric Lo sai Noi due Non c'è Noi due Più metà Ti prego Rage Non dire così Ok Rage l'ha detto Eric Che il loro matrimonio Era finito Non porti più La fede Ehi Fa più attenzione Oh merda Scusa Che cosa hai Di dentro Comunque Cazzo È una luce Luce ultravioletta È ultravioletta Esatto Cercare esplosivi Dammi qua No Stupido È lui Ok The Tempest Infatti la voce Era quella Quello con gli occhiali Da sole È Wesker Dei poveri Caspita È vero Che assomiglia Anche a Wesker È vero È vero Cavolo È verissimo Cos'ha l'unico anello Attaccato al collo No La fede Ok Allora Vediamo un po' Voglio Guardarmi In giro Leggiamo un pochino Qui Orgetto Servono risultati Con urgenza A comandante Rachel King Riservato Con l'avvio Delle operazioni Del Survive Group È imperativo Sottolineare La necessità Che la missione Abbia esito positivo Le nostre operazioni Militari Necessitano Di uno stato finale Chiaro e convincente Le forze USA Sono impegnate A sventare La minaccia Delle armi Di distruzione Di massa Irakene Se non ne dimostreremo La fondatezza Non potremo giustificare Un'invasione Alla luce Dei trattati Internazionali Quindi in realtà Loro stanno andando Contro ogni trattato Pur di trovare Le armi Nascoste Da Saddam Con la cessazione Delle ostilità Il rischio Che il regime Distrugga Le prove Le prove Dell'esistenza E infatti Rischiamo mancavano come lo sia, altrimenti sarebbe meno americano giuro di aver letto wind sto invecchiando le armi di Saddam che non c'erano tra l'altro per tutti voi che avete problemi, sì, questi giorni sono problemi con Twitch, ci mette tanto a caricare le stream a volte crashano, uh, that's bad ok, qua che abbiamo? è una telegramma, cos'è sta roba? un messaggio in codice ok riservato ok, queste sono comunicazioni riguardanti i soldati stanziati qua in zona che roba da vedere? questo è il quello che ci hanno interrotto prima, cioè che stavano guardando prima ci hanno interrotto, sì però prendilo per piacere vedete dai luogo del comando centrale data 5 maggio 2003 obiettivi del Survive Group a direzione della CIA gli obiettivi della squadra investigativa del Survive Group sono i seguenti organizzare e coordinare gli sforzi di intelligence tra le agenzie governative e le forze armate di coalizione Stati Uniti Gran Bretagna e Australia usare la propria esperienza per svelare ottenere e capitalizzare le informazioni relative a individui strutture e operazioni correlati alle armi di distruzione di massa organizzare e coordinare le operazioni di ispezione e sfruttamento di siti di WMD in Iraq il Survive Group risponde direttamente al comando centrale e al direttore della CIA i risultati a sostegno dell'operazione Iraqi Freedom verranno pubblicati a scadenza trimestrale a partire dal 1 giugno del 2003 ciao Fabio buongiorno buongiorno comunque sì con la squadra si può parlare adesso lo faremo prima volevo guardarmi in giro un po' vedere i documenti qui c'è un giornale vediamo un po' cosa c'è scritto ok c'è Bush caspita però dal punto di vista storico sono stati accurati mi piace sta cosa l'America oltreoceano missione compiuta il presidente Bush dichiara la cessazione delle ostilità in Iraq Manny Sherman giustiziato il killer non collabora durante le ultime ore ok Mary A. West Asian stavo vedendo se questa cosa qua aveva dei collegamenti Manny Sherman ok comunque è il 2 maggio in questo momento il 2 maggio 2003 dovrebbe essere a giudicare dalla data del giornale sempre che sia di oggi hai detto Bras no Bush Bush hai detto Bush no Bras se per favore non è un problema ogni 30 minuti da ora mando il copy paste uh certo 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 va benissimo non è assolutamente un problema anzi ti ringrazio Pistacchio come sempre per l'ottimo lavoro che svolgi questo è quello di prima sì questo l'abbiamo già visto è quello che era sotto la tazzina bella questa cosa molto da MGS un pochino un pochino questo è il vabbè il download se è se è scaricato agli elicotteri ah peccato però che si ha il tempo contato per fare le cose ok ne terrò conto d'ora in poi è la moglie tipo grazie The Tempest grazie Pistacchio bravi 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 lo paghi per questo Salim Badra Mandali ore 17.53 c'è neanche lo stacco tra le ore ha messo Salim Otman tenente di truppe di terra Iraq uh quindi vediamo anche l'altra fazione figo grey ok no no cercherò di no infatti Pistacchio infatti ciao Emiliano bentornato ok quindi passiamo anche alla fazione nemica bello ci saranno due fazioni insieme in questa avventura d'altronde anche il prologo già ci mostrava questa cosa erano due esponenti di due fazioni avversarie i protagonisti della parte iniziale e questa cosa poi si estenderà anche nel resto dell'avventura tra americani e irakeni bello 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 questa cosa mi piace mi incuriosisce voglio vedere come verrà sviluppata nel nel corso della storia va bene ma grazie per essere passato come sempre buoni esercizi ci vediamo prestissimo ti ringrazio molto esatto cosa che richiama il prologo esatto 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 richiama proprio il prologo oddio che schifo ok va bene cominciamo a esaminare qui le cose che abbiamo in casa ma ma perché c'è sempre questa cosa che non mi tiene il foglio dai stemma della highgate university vabbè questo non c'era bisogno di scriverlo signor zain ottman badramandali cuttirak 3 marzo 2003 numero domanda vabbè caro zain il consiglio ha approvato la sua iscrizione alla highgate university per i corsi di mitologia dell'anno accademico 2003 2004 che avrà inizio il 2 settembre 2003 l'offerta è vincolata all'accettazione dei termini che seguono in caso di mancata ad empienza l'università si riserva di revocare la sua partecipazione ai corsi offerti a completamento degli studi universitari con voti congrui agli standard minimi richiesti b ottenimento di un visto per studenti dal ministero dell'interno del regno unito unito è iscritto l'università inglese comprendiamo che l'attuale scenario internazionale possa complicare l'ottenimento del visto e il suo trasferimento nel regno unito le assicuro che può contare sulla piena collaborazione della nostra facoltà da oltre 120 anni la highgate university aiuta giovani di talento di ogni estrazione a raggiungere il successo inserendoli nel mondo dell'istruzione del lavoro non vediamo l'ora di partecipare al suo percorso personale cordialmente Andrew McAllister responsabile a missioni si 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 è vero è vero probabilmente erano fan dei giochi cioè sono fan dei giochi di David Cage è verissimo è verissimo ok qua un regalo buon compleanno Zane il mio bambino sta diventando un uomo per sempre con te papà tra l'altro non parla non è doppiato almeno qui almeno qui non è doppiato ok andiamo avanti vediamo cosa c'è qua carina come casa però c'è niente controllarmi bene in giro sperando di avere il tempo stavolta visto che qua il gioco a fretta tra le università italiane è il trisave di Kevin McAllister anche io ho pensato che è il McAllister di Omalone cioè mamma ho perso l'aereo ok ah il cesso non ce l'hanno in casa ce l'avranno fuori che schifo un cavallo solitario qua beh vado dopo voglio vedere la stanza da letto questa telecamera però è un po' troppo vicina caspita non vedo neanche dove sto andando c'ho il testone di di questo qua davanti mettiamela un po' più lontana no eh riesco neanche a muovermi a momenti ma comunque qua non sembra esserci un accidente vai andiamo di là Zain sì sì Zain è lui credo anzi no no non è lui non è lui no 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 è Salim lui è Salim ho detto una cazzata sì era strettissima ma sono strettissime tutte credo che Zain sia o Zain sia il suo fratello è stato per uscire una sorta di remake di Fahrenheit seriously eh lo so è dura è dura Fabio è dura che impassa un sacco di bella roba mitologia dell'antica mesopotamia del prof Shaki Amanat bella la copertina ah avevamo perso l'aereo è vero 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 ne avevo sentito parlare ok torniamo indietro voglio leggere voglio leggere voglio leggere allora il cielo non spettava i mortali i sumeri ritenevano che la volta celeste fosse composta da un complesso di cupole ciascuna ricavata da un diverso minerale prezioso la volta esterna incarnava Han dio del cielo quella intermedia ospitava gli dei celesti mentre la cupola inferiore era il piano delle stelle il numero di strati poteva variare da 3 a 7 il numero 7 possedeva la proprietà possedeva proprietà magiche e ricopre più volte nella mitologia e ricorre 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 c'è un typo ricorre più volte nella mitologia misopotamica 7 demoni 7 troni 7 spiriti e i 7 cancelli degli inferi per i sumeri ogni stella o pianeta corrispondeva a una divinità Utu rappresentava il sole Nanna in seguito noto come Suen o Sin era la luna Sin Nergal era legato a Marte Nabu a Mercurio Marduk a Giove Inanna a Venere e Ninurta a Saturno il cielo era la dimora degli dei mentre la terra sottostante era stata concessa agli uomini nessun'anima di questo mondo poteva raggiungere gli alti emisferi il vincolo con il regno terrestre era indissolubile anche dopo la morte non stupisce dunque che i sumeri siano stati i primi astronomi della storia segnarono la posizione degli astri identificarono pianeti e tracciarono i movimenti delle costellazioni sebbene i documenti dell'epoca ci siano pervenuti incompleti è opinione diffusa che le scoperte dell'astronomia mesopotamica fossero note anche in occidente dove formarono le basi delle mappe celesti della Grecia classica ne aveva un po' di storia no ma volevo leggere anche il resto miseria Febola è bellissimo Febola è stupendo lo so guardo dopo il telefono però Grey guardo più tardi in live cerco di evitare perché per rispetto anche per chi sta seguendo guardo dopo guardo dopo alla fine ok e volevo vedere l'altra pagina però non me la fa ma scusa ma me la fa vedere una volta e non me la fa vedere una seconda io delle volte non capisco la logica con cui forse nei segreti la vedo si dai qua questo lì vede scrive l'oltre tomba su mer definendolo con le pellette di dimora delle cenari grazie volevo leggerla però sta roba cioè non me la fa rileggere da qua che palle però ecco io detesto quando ci sono ste cose qui perché mi sarebbe piaciuto vedere la tua reazione a fine live a fine live tranquillo tranquillo Fabio il 2 considerato il migliore il 3 giocatelo dopo altrimenti prova disonere ma aspetti se hai due giochi differenti tra il primo e il secondo che palle non me lo fa rileggere vabbè vabbè ecco io di tempesto dai vogliamo andarci in occhio in giro qua abbiamo visto che non c'è niente in questa stanza stretta proviamo ad andare fuori da casa allora non credo ci sia molto da fare arriverà qualcuno se no ok c'è altro no forse ho dimenticato qualcosa va bene va bene Vince grazie per essere passato ci vediamo presto alla prossima alla prossima davide gioco horror puntata di Ulisse un attimo il letto il letto ok sì è vero avete ragione vai ciao Vince il letto il letto il letto cos'è ha rubato pizza risaletta l'ha messo è stata con i letti ah è il padre di Zeno bello che che abbiano che abbiano lasciato la lingua la lingua originale per questo cioè ci sta ci sta ci sta mi piace questa cosa rabbia ho trovato della merce rubata ah sono i ladruncoli di cui si parlava nel documento letto con King l'ha 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 la dors king normale o armor king king coi raiban king coi raiban incazzato con tutti e ancora di più lo sarà quando scoprirà che la moglie lo tradisce se non è che il doppiaggio sia molto convincente come lingua è molto più dura sembrano i sims quando parlano cavolo no devo trovare mio figlio aia quella mano sulla pistola non mi piace il migliore doppiatore sei tu quando interpretavi ad alberto oh grazie 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 ciao palairo grazie grazie quindi parte per la sua ultima missione vuole lasciare l'esercito monti zagros ore 18 e 15 buona fortuna e auguri ricevuto grazie mille passa si per lui era chiusa a tutte le stazioni silenzio assoluto coiote 2 chiudo scaldatevi ragazzi stiamo per arrivare ciao a The Tempest bentornato mamma mia ce l'avevi pronta ti è piaciuta se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo lo dice anche tua madre basta sparare cazzate diglielo Resha il caspito esiste soltanto un posto in cui una donna può darvi ordini ed è a letto io spero che Meryl faccia una brutta fine ma non mi faccio portare donne a letto? oltre a lei intendo ehi Resha che cazzo ridete eh il sergente Kay pensa alla gnugna io lo provocherei ehi qualunque sia il problema devi metterlo da parte mi servi qui come posso fidarmi te lo chiedo di nuovo posso fidarmi sì ci sono dai fastidio facciamo gli infastiditi parla Nick che cazzo ti prende? niente a me invece sembra che un problema ci sia e come? sto bene sto bene dimmi che non è quello smettila di pensarci vai oltre come me come te non hai premuto tu il crimetto siamo mare insergente ah perché ha ammazzato qualcuno ah c'ho neanche fatto caso al fantasmino cos'è? un motto da boy scout? proprio da marina sì sì è vero pistacchio è vero e quindi porta fortuna? quando pumpkin jack i marini sono pieni di superstizio un punto cringe alla dead jokes spara ne una senti questa non hai voltarti mentre scendi da un elicottero o la squadra è spacciata questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito abbastanza mi sa che mi sa che si è fatta la sporca e vuole piatta probabile scuola sempre in avanti se mentre sei in guerra ti giri una pallottola in culo delle meriti ci siamo quasi marine è per questo che ci hanno mandato qui e giuro su dio noi ce la faremo sì attento urrà urrà ok mi sa che qua cominciamo a entrare nel vivo della vicenda maiali volano no bello però il fatto che ci siano due fazioni mi incuriosisce mi incuriosisce molto zona di atterraggio ore 18.46 prendiamo il controllo di Jason la guffata finale due punti di vista diversi esatto esatto poi il fatto che gli iracheni non siano stati doppiati mi piace cioè che abbiano che utilizzino la loro lingua originale è figo perché immagino che il la differenza linguistica diventerà un problema andando avanti tra le due fazioni che sicuramente si troveranno alleate per combattere contro un problema più grande esattamente come avveniva nel prologo fiducio dividiamoci senza sparare vai divisi ma non sparate dobbiamo usare la testa ma se ammazza riclamo eh chissà chissà eh grey lo spagnolo lo spagnolo mi piacerebbe conoscerlo meglio ah sa parlare in arabo Rachel infatti che parlano in arabo è figo cioè ci sta mani dietro la schiena pistacchia via libera libera terimetro sicuro i prigionieri collaborano Roger eh io di Merwin non mi fido però come la chat precipita quando c'è grey ah 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 eh ma grey ci voleva il raid è fallito questi non sono nemici sono pastori si infatti non sono sono dei poveracci questi qui che vivevano la loro vita tranquillamente aggiornami prego nessun colpo sparato nessuna vittima fattoria sicura prigionieri neutralizzati prigionieri hai trovato un ingresso per il silo no negativo ammesso ci sia è ben nascosto ammesso ci sia che vuoi dire tenente eh vabbè rispetto dobbiamo ancora setacciare la zona lo troveremo si è vero sono molto magri è vero è vero è vero ma ne va solo la pena zero vittico lavoro pulito grazie signore è un scherper davvero visto Johnny Cage si si è vero è vero è un mix perfetto è un mix perfetto King colonnello King Eric mamma mia Merwin quanto è odioso se vedete anche solo volare una mosca voglio saperlo ricevuto non so voi ma questo posto ha qualcosa che non mi piace ah si per cosa è quella intuito femminile di cui si parla si vuoi vedere che succede quando si incazza non muoviti devo per cui dire femminile femminile vabbè non dico nulla ascolto e basta che è quella roba lì mamma mia Emily mamma mia quanto era odiosa puoi dirlo Grey io sarei curioso forse legata ai mostri che ci sono nelle profondità che comparano durante le eclissi ok uh si è punto cazzo effigie pagana vediamo scusate voglio vedere un attimo effigie pagana con un acuto barbiglio nascosto al suo interno che ricordi gli artigli di quelle creature la la infondo nelle profondità eh si più o meno pare di si ne ho abbastanza caporale tieni da no nessuna scelta è importante pistacchio ok intero per l'ustra fattoria va bene proviamo a vedere dobbiamo interrogarli o interrogare quelli che ci sono qua in giro chi è che fischia quietudine dimmi dove è il sio era armato signora esatto 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 pistacchio almeno non sono troppe poi che stronzo che stronzo provo a non colpirlo vediamo cosa succede non voglio fare il violento e io ti faccio a pezzi e ti do il bastoglio sciacalli cazzo altri prigionieri sì sono di là andiamo gli occhi grossi quanto la testa sì in effetti in effetti non perderlo di vista sono super raiban caspita o è lei che ha la testa troppo piccola ok esamina questo mi sa che è esatto è una premonizione uh uh litigano tra di loro attenzione non è che mi viene quasi da pensare che ci possa essere una maledizione là sotto che li faccia impazzire oltre ai mostri vedremo vedremo sono curioso sono davvero curioso di vedere come proseguirà questa avventura per ora non è accaduto nulla di di troppo spaventoso sì sì Ashley Teasdale lei sì 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 è Ashley Teasdale per una volta hanno tirato in ballo un'attrice che comunque è abbastanza famosa sì sì dici bene The Tempest mi ero ben dimenticato di dirlo è Ashley Teasdale no ho visto già questo scusate fino ad ora sono contento di aver mai acquistato nessuno dei tre giochi della trilogia ma in realtà sono giochi da live per me questi qui ho da giocare con amici io li compro perché mi piace giocarli con voi se no non so onestamente se li avrei acquistati sto che tu è sicuro test e star film mi sa che ci verranno ancora un po' di anni meglio vederli sì sta telecamera la telecamera in effetti negli ambienti chiusi è gestita un po' maluccio eh tu li compri perché c'hai il grano no li compro perché mi piace mi piace portarli portarli per voi con voi giocarli con voi magari ci ha messo il grano vuoi dire qualcosa sergente guarda a terra cosa vedi non c'è niente se c'è un silo dove sono le tracce no questa è una caccia dalle streghe il suo prezioso KELUS ha sbagliato tutto seguiamo gli ordini sergente la perquisizione non è finita si si tu fai il mio Araes andiamo qua dentro si vedete è troppo attaccata al collo dei dei personaggi e ci stiamo col culo si si su qui fa venire i menti so anche se non li faranno mai uff ricordo i so il grano che spetterebbe ai mod aha allora c'era davvero qualcosa o forse no no mi sa di no è eroina ecco spacciatori una sorpresa dopo l'altra questi sono criminali da quattro soldi che cazzo pensava Eric voglio che lo vistiate da cima a fondo si era dal solito diventato poverello per acquisto la tradizione di su uh ci attaccano eh si mega imboscata no Joy l'unico che mi stava simpatico aia fa effetto però vedere scene d'azione così in un gioco super massive il frame rate si 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 è un po' ballerino è vero uso fascis è vero pista sono sulla collina rispondi al fuoco ok diventa un action grazie grazie olizia 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 al d questa è una ok house of patches capiranno mervin è un coglione fino alla fine ok ma davvero devo diventa una sorta di gioco semi action vabbè devono bruciare via dai usiamo sto fosforo cos'è contento ok granata mamma mia aia si 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 li ho giocati entrambi li ho giocati entrambi portati in live negli anni precedenti no ho sbagliato caspita devo stare attento un attimo vai anche perché qua basta cannare un QTA e si rischia di farli crepare perfetto povero Joy no aia aia no eh mica tanto un graffio gli esce sangue da dovunque no no Joy caspita mi stava simpatico si c'è anche in song of horror si 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 bello tra l'altro song of horror bello song of horror molto bello song of horror maledizione dropkick a tutte le stazioni silenzio revocato qualcuno mi aggiunga sul donato in casa ma non preoccupare non date non date troppa credibilità a quel leak di di Elden Ring che hanno rilasciato non fidatevi dei leak vediamo quello che sarà annunciato per davvero si deve parlare questa lì questa nera mi ricordo il mio tour in ufficio con i clienti era interessante per il po no hai fatto bene metterla si si anti-in-don l'ho giocato si 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 anti-in-don l'ho giocato l'ho giocato l'ho giocato assolutamente si uh vai ho giocato tutti i titoli supermassive tranne questo che sto giocando per la prima volta ok saliva ha visto jason uccidere il pastore aia 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 ti conviene non sbagliare questo ci creeranno pochi problemi questo è il soldato che stavamo controllando prima ah jason è rimasto ferito bestia oddio è un terremoto bestia tutti i quattro fantastici dittolope è il mio preferito per ora l'ho adorato tantissimo aia si ho fatto delle scelte un po' del cavolo però ricordatevi che in questi giochi non c'è mai una scelta che sia giusta o sbagliata e proprio questo è il bello faccio ogni cosa che è mazziva grotti di sabbia ore 19.02 profondità 52 piedi e qua si comincia si in effetti ricordano un po' Birdemic quegli uccelli lì in 2D figata figata adesso si comincia a vedere le cose interessanti dopo guardi su internet vedi che vedete le scelte più sbagliate può essere idem solo Man of Medan non mi è piaciuto fatto bene ma non mi ha fatto impazzire neanche a me ha fatto impazzire Man of Medan sono d'accordo con te olizia 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 giusto oddio spero di aver letto bene che dato non c'erano scelte effettive il casotto è successo perché avevi sbagliato un QTE che non ho visto sì ma in realtà se sbagli un QTE tante volte ti può crepare un personaggio così dal nulla ah premile 1 per accendere o spegnere la torcia ok perfetto bene dai cominciamo l'esplorazione dei sotterranei allora sono proprio curioso è una grotta questa qui Man of Medan a me non era piaciuto non non aveva fatto per niente impazzire ai tempi vedo che c'è sempre una scelta corretta dipende in questi in questi no per assurdo proprio perché è il giocatore che ha totale controllo tra virgolette sulla storia in teoria poi sappiamo che non è esattamente così Alfio va bene ti chiamo Alfio dai è più comodo grazie 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 sì esatto nel caso di Fedor c'è sempre una scelta corretta vero ok però di qua da dove sono arrivato quindi ma dai in fondo cosa c'era no però non capisco mi sono già perso qua da dove è caduto qualcun altro mi sa esatto esatto sì la scelta corretta per alcuni potrebbe essere quella di farli sopravvivere tutti ma magari qualcuno lo gioca con un approccio diverso quindi anche farli morire tutti non sarebbe una scelta sbagliata di per sé ok infatti concordo con pistacchio va bene va bene Fabio a più tardi se passerai staremo in live parecchio oggi buona raccolta delle olive a prestissimo sì 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 esce l'ultimo episodio di di questa quadrilogia della prima stagione della dark pictures anthology ma secondo me ne faranno altri penso sai che devi farli morire tutti the devil inside dovrebbe essere il titolo della nuova iterazione ho visto già i trailer purtroppo i siti di informazione me l'hanno spoilerato dovresti darti una pizza fedro per dopo perché una pizza oh vieni ah no è jason ok davvero incredibile in che razza di posto siamo finiti il rimanetto al solito vero quello ah ed io in realtà palairo dipende perché i the walking dead i the walking dead lasciano lasciano abbastanza cioè seguono le scelte fatti nei giochi precedenti se hai salvataggi però nei titoli della supermassive che non hanno seguiti in realtà e come anche nei giochi di david cage le scelte del giocatore sono libere cioè la storia è plasmata proprio dal giocatore se si parla di seguiti è diverso ma se parliamo di giochi autoconclusivi non ci sono scelte giuste o sbagliate in questo caso qui no invece sì the walking dead hanno scelte che impattano non esageratamente però a seconda di alcune scelte che si fanno se tu hai salvataggi del gioco precedente soprattutto tra il 2 e il 3 la scelta finale del 2 ha impatto sull'inizio del 3 ho molto amico per il prossimo sono curioso anch'io si deve stare finitare vero così c'è lì in diretta no ma ce n'erò dopo si mangiano zucca e dolcetti no no dura sulle 6 ore finiremo per le 8 o per le 9 ragazzi stasera Nick sergente datti una svegliata occhi aperti ok rassicurazione sto bene sto bene solo non mi aspettavo di sprofondare sotto terra cazzo dirò a me ok non hai mai visto nulla del genere che diavolo di posto è non so ne avevo 4 stavolta molto bene molto molto bene fino ad ora le migliori interazioni dovute alle scelte alle derivanti di conseguenza che si traspostano a capitolo in capitolo si è vero è vero è vero quello che lo dice non so qualcosa si 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 ma per carità poi le scelte comunque ti portano cioè tra un gioco e l'altro tra un prequel e sequel è ovvio che le scelte hanno sempre un impatto fino a un certo punto perché è ovvio che la storia deve avere un minimo di ossatura perché sennò diventa un casino cioè dovrebbero fare seguiti diversi a seconda delle scelte fatte nel gioco precedente è ovvio che hanno un impatto ma minimo un'ossatura di base deve sempre esserci cioè questi giochi qui ci permettono di vedere alcuni momenti differenti ma hanno un'ossatura che è quella l'ossatura è quella è la ciccia intorno che può cambiare comunque andiamo avanti perché se mi perdo troppo in chiacchiere finiamo davvero domani che cavolo era che cavolo era ma era un c'era uno di noi che veniva trascinato di sotto vabbè dai leviamoci e proviamo ad andare di qua ma qua sembra proprio la zona in cui eravamo con i due personaggi all'inizio esatto esatto ma infatti alcuni giochi non ti fanno capire che non c'è esattamente una scelta corretta occhio però occhio occhio Alfio perché io questo non l'avevo visto se l'hai giocato ti chiedo di non di non dire cose perché io devo ancora finirlo sono in blind attenzione per un messaggio va bene però attenzione evitiamo spoiler in chat vi prego devono sempre andare dal punto A al punto B nel punto C ma con scelte diversi dettagli diversi esatto 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 pistacchio esattamente vabbè ma non credo l'avesse fatto apposta può scappare può scappare un messaggio così taglia le funi ah non lo sapevi quindi avevi avuto un'intuizione ok 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 chiedo scusa allora ahia è fottuto è fottuto eh si è messo piuttosto male sì sì ma è vero Palairu concordo con quello che dici scusa Alfio allora non avevo capito molto bene sì 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 no ma è lui è lui abbiamo visto che è lui che cazzo via presto che mi è successo via cazzo c'è là fuori non lo so e non voglio so in che senso Palairu bentornato Arsene ok vai dimmi la verità sarò sincero sei messo un butto infatti Merwin sei sempre una palla al piede vai dai 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 bella siringata siamo fottuti ti avevo detto di stare caldo ci vengono addosso ming l'oncini dai tanto è spacciato tanto è spacciato eh sì l'ho fatto fuori non c'è battito non c'è battito cazzo non è vero io non è andato Nick Merwin è morto tanto non si sarebbe salvato gli ho fatto un favore andiamo no 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 ma va no no assolutamente posso dirlo meno male no no vabbè non perché lo odiassi ma era spacciato ragazzi non ce l'avrebbe fatta comunque non ce l'avrebbe fatta comunque se li divorano comunque se li divorano che ho ragione perché lo dico io e quindi tu no gne 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 sì comunque davvero Alfio scusaci è che abbiamo avuto una bruttissima esperienza con Village quando lo abbiamo portato la prima volta che ce l'hanno spoilerato nei primi momenti di gioco quindi i modi tutti sono molto sull'attenti assolutamente nulla di persona che questo sia chiaro anzi sentiti libero di commentare con molto piacere no no mai mai e siamo a meno due esatto siamo a meno due e adesso passiamo a Salim che anche lui è finito di sotto fa niente ok ok meno male per l'occasione di tutti i modi hanno giocato in gioco e sono detto ogni possibile scelta per far sì che si possa dare l'esperienza no attenzione non parla in inglese parla in arabo parla in arabo pistacchio perché hanno voluto mantenere una differenza linguistica tra le due fazioni vero è che forse il modo per giocare al meglio il gioco sarebbe stato giocarlo in lingua originale in questo caso ottimo ottimo Arson l'anno di mio figlio è incazzato perché voleva restare a casa col figlio ed è stato costretto a venire qui povero Salim per ora è il personaggio che mi piace di più no 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 parla in arabo parla in arabo assolutamente hanno voluto mantenere appunto la differenza linguistica tra tra i vari personaggi anche a me piace Salim grande pistacchio beh ti sei giocato un titolone cosa è un cadavere chi è questo oddio vai eh ma no non è decisamente no non è berwin questo qua è coso è quello con gli occhiali joy potrebbe essere lui invece faccio che non abbiano doppiato gli arbi anche a me anche a me piace anche a me piace beh ff7 è un titolone grey è fantastico l'originale la cosa fa sta anche volendo non li rego proprio questi titoli sono lì in compagnia dicendo cose stupide continuamente no no ma infatti è un gioco da giocare in compagnia assolutamente questo qui si rende meglio in in company ok altra premonizione no no l'originale l'originale grey l'originale mamma mia mamma mia il remake mi è piaciuto però ha dei problemi grossi comunque 8 ma si fantasy 8 gli si vuole bene nonostante i suoi difetti è un gioco che amo lo sapete neanche voglio di rigiocarlo in questo periodo bene benissimo vai salta salim ti proteggerò perché mi stai simpatico ti danno un indizio su cose che potrebbero accadere che potresti evitare pistacchio le premonizioni si 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 hanno questo hanno questa funzione qui senza uscire abbiamo l'accendino meno male devo vedere qua se c'è qualcosa però devo dire che l'ambientazione dei tempi sotterranei mi piace anche di tombraider barranciarti da tutto ciò il 7 è un problema il finale il 7 è il remake perché i tunnel non mi crollino qualcosa che sbrilluccica no non vedo niente qua che sbrilluccica big sister proviamo a guardare meglio se c'è altra roba da esaminare ma non vedo niente qua no nada di nada diamo dritti allora dove c'è questa inquietante pozza di sangue lascia le peste se la eh sì ciao buonanotte sono io che spero in un realismo che qua non c'è allora niente andiamo 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 avanti vediamo cosa c'è in questo corridoio secondo me è salsa sì è ketchup è chiaramente ketchup e giustamente tu ci cammini sopra subito eh per testare bisogna vedere vai ecco questa inquadratura mi piace molto in realtà abbiamo dei geroglifici qui sulle pareti belli 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 fatti bene questi qua è bloccato andiamo dritti allora testi quanto è denso il sangue le vasi queste quantità ricordano molto qui po dove si gravi un esperto a zain piacerebbe questo posto vai mamma mia questo è uno dei suoi alleati bestia vai 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 Madonna, vai, 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 vai Vai, no, non voglio che muoia Salim Bestia Mamma mia Dai, Salim Difenditi Meno male Meno male Terremoto provvidenziale proprio Poverino E' lui che voleva solo stare a casa col fratello Fortunato Fortunato di storia del latte Ritorno al prossimo appello Perché? Che ho detto? Che ho detto? Che ansia sti momenti Non leggere! Infatti non l'ho letto Sta uscendo pazzo con le risate Sì, sì, sì E beh E' una risata isterica Dopo un momento di paura totale Sì Veramente ansiosi Alfio questi momenti Chiudi e scappa Infatti dai Ci è andata bene E non è mica bello Non è mica bello Oh Passiamo ad Alan Wake Cioè a Eric King Scusate Alan Wake perché è lo stesso doppiatore Ok Tutto bene? Facciamo i bravi La nostra moglie Scappa Sareste scappati tutti quindi Dai Voglio fare il marito premuroso Ne dubito Ma anche se lei non sembra aver reagito bene Ok Ci siamo? Ci siamo Non siamo Bisogna dai Gray Essere dei galantuomini o no? Tu sei il primo Ad essere un galantuom A basso rilievi No hai ragione Hai ragione Hai ragione Henry Hai ragione Abbiamo la fune È vero L'ho trovato in giro per la base Pronta? E tu? No ho tolto internet Dalla console Proprio per evitare Proprio per evitare Che dia problemi Sto galantuom Hai visto quali errori Mi ha portato Tutto ciò E lo so Sogre Mi sembra un deposito di armi Allora perché ci hanno attaccati? Se non c'è niente Perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra La gente tende a spararsi Giusto Eh lo so La vacanza La vacanza Mi ricordo caro Grey Dovesse ricadere ragazzi Mi auguro di no Voi restate comunque Non andate Non andate perché Riprendiamo Lui è ancora innamoratissimo di lei Va bene Aldo Va benissimo Grazie per essere stato con noi Ci vediamo presto Buona serata E buon lavoro Buonissimo lavoro Immagino che tu lavori In ambito ristorazione Visto l'orario La butto lì Però Per private si può anche Non rispondermi Andrò assolutamente Sì esploriamo Esploriamo Andiamo avanti dopo Voglio prima guardarmi in giro Vedere se troviamo cose particolari Ok Qui Eh infatti c'è C'è una tavoletta E Ho tutti Allora ho i primi due capitoli Cioè scusami Ho Man of Medan Buonanotte Ho Little Hope House of Fascists Man of Medan mi manca Perché ai tempi Me lo avevano prestato Per Per portarlo in live È l'unico che mi manca L'unico che non possego Però Little Hope House of Fascists Sì Ah elettronica Ok 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 Repartiti Figo 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 Sì sì infatti Non andiamo dritti Pedro pensa Il matrimonio No 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 Mai mai Il matrimonio Cioè ci pensa Erika King Ma non io Queste iscrizioni Ok Non Non dice niente Non si può fare niente Sembra vecchia Bello Until Dawn Però Until Dawn Non fa parte della Dark Pictures È sempre però Di Super Massimo Eh siamo in una tomba sumerica Sumera Sumera Non sumera Sumera Sumerica Pedro che cazzo dici Tomba sumera Andiamo giù Scendiamo sempre di più Nelle profondità Eh beh Tanta roba La panettiere Tra l'altro Doppia È la doppiatrice di Kairi In Kingdom Hearts Aiden panettiere Però devo dire Che l'ambientazione Mi Mi intriga Anche se Little Hope Aveva più Fascino A mio avviso Era molto più psicologico Invece questo è un horror Più fisico Sicuramente Ah allora è un problema Di PS5 Sì regge Ah Allora vedi che Non è un problema Di connessione Perché io Quando streamo Con Quando streamo Con Col pc Non ho mai problemi Quando streamo Da pc Non c'è mai stato Nessun problema La gran Proverò a vedere Ok Unisce le forze alleate Resta accanto a Rachel Perlustra Le rovine Ok Altri Basso rilievi Non c'è niente Per te dove siamo Infatti Potrebbe essere Eh sì C'è da dire che comunque La La nostra Mogliettina È ben Preparata Mi è piaciuto molto Tales of Arise Mi è piaciuto tantissimo Tales of Arise Eh Pazuzu Pazuki Pazuzu Non guardi il film horror Dovresti conoscere No Lì vive Il film horror È un demone sumero Centra con le epidemie Credo Epidemie Ebbene È vero Per ora non ne ha tanti Alfio È vero Incredibile Di Tales of Arise Abbiamo registrato Una discussion Io e Cosmos Proprio ieri Che dura la bellezza Di 50 minuti Che vi pubblicheremo A giorni Appena riesco Edito il video E ve lo pubblico Lì Avrete la nostra Analisi Barra impressione A 360 gradi Dura due Addirittura due coppie Come due coppie Una ne ho Ne ho una Ne ho una Ok Comunque sì Ne parleremo Ne parleremo Di Arise Cioè Abbiamo preparato Un video Che uscirà a breve Sarà full spoiler Ovviamente E Discuteremo Di tutta l'esperienza Mia di Cosmos Con Arise Che c'è? Ancora no Prima viene a Verona Anche se Di trutto Questo posto Ha un suo passino Chissà che è successo Ho ancora da montare E c'è Uh Sono spari Da dove vengono Chissà se Il fatto che Si chiamino King di cognome Muoviamoci Non sia una citazione Voluta a Stephen King Comunque a me La voce di Zurla Piace tantissimo Come doppiatore Per me è ottimo L'ho adorato Anche in Alan Wake Eh sì Quello è vero Quello è vero Le città Non è che siano Il massimo Ricattatore No è perché Sono i principali Quando la storia Parla di un re Questo potesse essere Una citazione A Stephen King Ok Incredibile Non siamo i primi qui Eh no Dai Facciamo i comprensivi Mi spiace Eric Ma è da fu Tanto per questa ricerca Più di quanto immagini Non è colpa tua Ho sbagliato Avrei dovuto controllare i dati Sbagliare ogni possibilità Ma era così sicuro Fosse qui So quanto contasse per te Mi dispiace Dai Tenerezza Abbiamo sbagliato entrambi Voglio farli Rimettere assieme Una depressione Per le scosse Grande Nico Sono felice Che ti sia utile Quella guida Comunque Ho compasso Penso solo Al silvabiteco rosa Che è uno dei vostri Al pietro di Q2 È vero Infatti Infatti c'era qualcuno Che era qui Per fare degli studi Chissà Può essere Gray Può essere Può essere Che sia una citazione A King Potrebbe avere senso Funzione ancora Funzionerà Ma serve benzina Troviamone un po' Ok Dobbiamo riavviare il generatore Volevo vedere un attimo Mi piace un sacco Il fatto che Con la levetta destra Si possa Girare il volto Del protagonista Che stiamo controllando Erika Parbietà Jason Prudenza Autorità Causticità Se diceva qualcosa Con Eroba 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 Ricordato Eroba Che entrambi Avranno commesso Gli errori Beh dai Io vorrei farli Tornare insieme I loro due Segreti E caspita Abbiamo trovato Pochissimi segreti E Poca roba Idola Figurante Pazzuso Un dio demone Sumero Va bene Andiamo avanti Non so ancora Perché Shin Megami Tensei 5 Non lo acquisterò Perché ho troppo Backlog Anzi Sguardo Sembra che abbia Un collo lunghissimo Nick è il mio Personaggio preferito Io al momento Sono per Salim Di Racken È quello che mi piace Di più Ok Qui Vedi con che fretta Hanno fermato la porta Sembra un gesto Così disperato Chissà da chi si proteggivano Infatti anche per quei Ricercatori che erano qui Non stava andando bene Bellissima la texture Della roccia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sì C'è da dire che le texture Comunque E siamo in modalità Grafica Non in modalità Prestazioni 4K OLED Non lo compro Perché ho troppa roba Da giocare Bob Troppa roba Sai Per il kebab Salim per il kebab Far Cry 6 Non l'ho giocato Non l'ho giocato No Purtroppo no Io per il cioccolatino Perché fa del torto Eric Eric mi sta sul culo Prescindere Ho dovuto usare Quell'aggettivo per il tipo Perché ricordo già il nome L'ha detto prima Alfio Nick Nick Sempre luminoso Rispetto a quello Dello scorso anno Dici a livello Di luminosità Del gioco Forse perché l'ho tenuta Più alta io Può essere Questo che è Anubi Era Lui era Nick Vai Nick Sì ma Vedo che piace a molti È perché ha ucciso Mervin Vero? Guarda qui Sì sì L'ambientazione È interessante Però A me piaceva di più Il villaggio Del titolo precedente Cioè per me Little Hope Al momento Resta ancora La produzione più bella Di Supermassive Io l'ho preferito Anche a Dante Il Dawn Little Hope Sono sincero A tutte le stazioni Qui King Mi ricevete E passo Credo di no Con chi ce l'avevano? Eh Lo sappiamo bene Con chi ce l'avevano C'è il generatore Che dobbiamo far ripartire Allora proviamo A seguire i fili E vedere Dove ci conducono Si collegano di là E come sta la squadra? Sono in gamba Tutti con me Ma Mi piacevano i copi D'artificio Infatti Però mamma mia Le texture Però veramente Ti è piaciuto solo Perché ha Hope Nel titolo E ti ricorda Uno dei protagonisti Di Final Fantasy 13 Che ha amato Eeeh Eeeh Amatissimo Proprio Amatissimo Si me lo ricordo Era più terrificante Si faceva decisamente Più paura Little Hope Poi aveva Quella componente Psicologica Che io personalmente Adoro E come la vedo io Se qui c'era qualcuno Ci sarà anche un'uscita E infatti E che le strade Sono sbarrate Proviamo a salire qua Verso Anubi Credo sia Anubi Non so Poi magari E Osiride Vai a sapere Attenzione 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 Del Re No è vero È vero Non sono egizio Ho detto una cazzata Ho pensato Mi viene da pensare Agli egizi No no Non è vero È vero Non c'entra un cazzo L'Egitto Non c'entra una sega L'Egitto Scusate Anubi di Iraq Ho detto una cazzata Dai Perdonatemi È vero È vero È vero Siamo in Iraq Non siamo in Egitto Porca troia Ho detto una puttanata Puoi tastare il piede della strada Come secondo Secondo Grey piace fare a te Fedro Eh Grey pensa che io abbia un amore per i piedini Fedro Non ho mai giocato ad un Shime Gaby Tensei Posso comprarlo il 5 Oppure sono collegati Non sono informatissimo Sulla questione Dovresti chiedere a Cosmos Perché è lui che è più informatico Non è più informato di me Non credo Non credo Però potrei dirti una cosa sbagliata Preciso Uh Scopriamo dove è nato il covid Referto dell'autopsia Ceca Caccia tramite Ecolocalizzazione Ipersensibilità Illegibile Pelle altamente resistente ai traumi Impacciata nel volo L'evoluzione di saliva Va in letargo Eh Queste probabilmente sono È un referto di un'autopsia Legata a uno di quei mostri lì No no Sono detto Vabbè Ho detto Vabbè Scusate la battuta Non volevo offendere nessuno Non credo siano connessi In ogni caso Quando esce Porto una live Ottimo 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 Non sono collegati Non sono collegati per quanto Ne so io Ma come per Persone 5R Alcune fight contro personaggi passati Principalmente hanno mostrato Una contro Il protagonista De Nocturne Sì sì è vero è vero I persona sono Hanno dei legami E sono giocabili a parte Sì sì ma Si riferivano proprio A Shin Megami Densei Praticamente Lo comandiamo No vabbè Non volevo offendere Dai è vero L'argomento covid è bannato Però Parlando di Pistrelli Mi è venuta la La citazione in bocca Senza volerlo Allora dai Proviamo a Scendere Vediamo qua cosa c'è Intanto abbiamo trovato Un altro segreto Oh sì Questa è proprio La sala del trono E quel Cavolo di Quel cavolo di Petardo lì Non si spegne mai È venuta la citazione Oddio no Vabbè dai Adesso mi clippate Lo so Adesso lo so Che me le clippate Ste robe Si sa in che condizioni Lavoravano Mmm È andato un po' a puttane qua Il La scatola del generatore La comità Direi che ormai Su l'ignoranza Abbiamo dovuto subire Un bacino Questo 2021 Allora Qui cosa abbiamo Un altro documento Non l'avevamo letto Questo Non si sa No infatti Roba nuova La maledizione di Accad Di Aline Journaux Quindi è una francese C'erano dei francesi Qui Per gli studiosi La maledizione di Accad è un mito Una parabola Per insegnare I sumeri A sopportare La carestia Il fatto avverso E i caprici Degli dèi Eppure La scoperta Di questo Colossale tempio Fa intuire Una nuova verità Nel racconto originario È il dio Enlila Scagliarsi Contro il re Naram Sin di Accad In principio Il re è dipinto Come una persona Fiera e religiosa Ma dopo sette anni Di preghiere Inascoltate Naram Sin decide Di chiederne conto Direttamente Agli dèi Organizzato Un esercito Marcia quindi Sulla città di Nippur E rade al suolo Il tempio Di Enlil Un'impietà Tale da spingere Il signore Delle tempeste A scatenare Su Naram Sin L'ira Delle divinità Inviando i gutei A saccheggiare Accad E i suoi campi E maledicendo La popolazione Con una terribile Carestia De tempeste Sei terribile Sei terribile Chezal Sì In effetti Fa venire in mente Chezal Perché se Tendi quello Detto da Grecia Per il sito giallo La connessione Di uscita Non ci provare Allora Qua Ma qua vado verso l'uscita Però posso andare Di qua Andiamo a vedere Ciao Gigan Buongiorno Buongiorno a te Benvenuto Ok Qui Esaminiamo Porta però Sembra essere aperta Si va di trash Videoludico Oddio In realtà Sai che Non è così Sbagliata Come definizione Cioè I titoli Della Dark Pictures Anthology Sono belli da giocare Però sono Tremendamente trash Cioè Sono horror trash Ma volutamente Richiamano L'horro Il genere Dell'horror trash È una giusta definizione Trovi d'accordo Ed eccolo lì Benvenuto Allora Qua Sono Taniche di Di combustibile Benzina Sì È un problema Che non si possa Correre Finalmente Un po' di fortuna Oddio Mi fa troppo Strano di sentire La voce di Alan Wake Su un altro personaggio Dopo averlo finito Giorni fa Gamba Gamba Ah Intendi la protesi Ho perso la gamba In autostrada Io Mi sento ancora in colpa Sono stato duro con te Lo so Rage Non è stata colpa tua Forza Al lavoro Questo capitolo Non lo conosco Lo ammetto Ma i primi due Li ho giocati Visti giocati da altri Diciamo che sono Giochi horror Che giochi per ridere Sì Ma è vero È vero Non è che Sono titoli spaventosi O altro Però di per sé Sono giochi appunto Da giocare In live O in compagnia Va bene Va bene Fairo Ci vediamo dopo A più tardi A più tardi Che c'è? La valvola perde Il tubo è fissato male Si può riparare? Fissiamo il tubo O niente generatore Ci sarà qualcosa di utile Ok Trova del nastro adesivo Bene Qua poteva Potevano mettermela Una corsetta Per esplorare più veloce Qui? Cosa c'è? Andiamo Esamina Eccolo qui Trovato Ottimo Dai prendilo però Ok Va bene Però prima volevo dare un'occhiata A questo Punto brillante Eh infatti Sembra quasi che Volessero far esplodere Tutto Forse per uccidere I mostri Che si trovano qua dentro Sì Certo 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 Ho giocato Della Stovasa Assolutamente sì Sia il primo Sia il secondo Vedrai mai giocato Dragon Quest 11 Non so neanche che gioco sia Grey Mai sentito dominare Cos'è Dragon Quest? Non lo conosco Invece no Devi camminare Esatto Big Sister Dragon Quest Non ho idea di che serie Che gioco sia Però mi hanno detto Che è brutto È bruttissimo L'11 Poi ho sentito Che è un gioco Talmente corto Che non vale neanche La pena di giocarci Talmente corto Talmente veloce Si finisce in poche ore E che di un'era perduta In italiano Oddio lo so che questa cosa Dell'italiano In italiano Mi fregherà Per il resto della vita Allora dove era? Qua io mi sono già perso Dov'è che c'erano? È qua il generatore No? Ok Impariamo La falla Infatti 60 euro Per 5 euro di gameplay Eww Questo ne costa 30 Comunque House of Fascists È sempre uscito a 29,99 Come gli altri Ci sei? Con il gigaspoiler Che mi hai tirato Lo so che bella Te lo porterai Fino nella tomba Quel gigaspoiler Grey Tra l'altro ho tagliato Quel gigaspoiler Nella serie L'ho tolto Ti sbagliare L'ho tolto Che non hai cambiato nulla Ma io sì Durante la nostra lontananza Non ho Smesso di pensarti Non l'hai fatto anche tu Eh non posso dirlo Pistacca Dai Mi mancavi anche tu Mi mancavi anche tu È normale no? Ne abbiamo passate tante Reggimi il tubo Fatto Cappelli di un certo lucente Aiutami col pannello Grazie Over Jeff Per il follow Benvenuto Guarda come suono Grey no Assolutamente Assolutamente no Sembra una vita Sembra una vita che non facciamo qualcosa insieme Al tempo stesso Sembra ieri Mi hai resentivo il preferiti Alfio Sono il remake del 2 E il 7 Assolutamente Sono i due che preferisco in assoluto Ho tentato Ma non hai fatto nulla per trattenermi E il 2 originale Dovevamo stare uniti Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e Ho ignorato il resto Ehm Rispetto dai Il tuo lavoro è più importante di noi Non potevamo prevedere l'impatto che avrebbe avuto Bello Mi è piaciuto molto il 3 remake A differenza di tutti che l'hanno odiato Però reputo Gli altri due capitoli superiori Però è bello il 3 remake Assolutamente Mi sei mancato Non sai quanto 3 remake è bellissimo All'epoca Non so Era tutto così confuso Ora Sembra più semplice Dai Abbiamo ancora una speranza Su Forse abbiamo ancora una speranza Dovrebbe andare Accendiamola Oh comunque veramente Alessandro Zurla Interpreta sempre personaggi Che sono in crisi con la moglie Non vorrei dire Era un anno di distanza Uno Mio dio Eh si vede che Recele è focosa E c'ha bisogno di trombà Cioè ragazzi Scusate la La volgarità Ho iniziato a seguirti Da quando qualche giorno fa Ho iniziato a vedere Dragon Quest'otto Che hai portato Fantastico Grazie Over Jeff Grazie 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 Sono entrati Sono felice Che la serie Ti stia piacendo E benvenuto Benvenutissimo In community Passiamo a Jason Grotti di sabbia Ore 19.22 Mamma mia Sono brutalmente inseguiti Mamma mia Uh Vai Ok Passiamo in mezzo Meglio l'altra strada Eh Attraversa Dai 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 Mamma mia Se la sta un po' Vedendo brutta Jason e Rick Nick Nick Scusate Uh Vai 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 Porca miseria Oddio che brutto Oddio questo posto Che brutto Mamma mia Tempio Ore 19.24 Torniamo a Rachel E a E a Derek È un Leaker Pippistrello Sì in effetti Polabbiata Perfetto 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 Intanto per i nuovi arrivati Ricordo che se vi fa piacere In basso delle info ci sono i social Esatto ragazzi Se siete nuovi Arrivati Potete entrare nel nostro server discord Grazie davvero Grazie davvero comunque Over Jeff Ti ringrazio molto per i complimenti Sono felice che la serie su di Quotto ti stia piacendo Ci sto mettendo l'anima in quel lavoro Quindi Vedere che viene apprezzato per me è sempre piacevolissimo Uh Attenzione 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 14 Ottobre 1946 Quindi questo accampamento Deve essere piuttosto vecchiotto Viene da pensare Per rallegrarsi questi due si mettono a giocare a triple try Ed è sei costretto a vincere No Not again Comunque 14 ottobre 1946 Randolph Spero che questa mia Ti trovi in salute Che questa mia lettera Ti trovi in salute Vabbè La spedizione di scavi È stata rinviata Abbiamo lasciato una parte Dell'equipaggiamento a Soran Perché Pullman Ha portuto Per mettersi soltanto La mità degli uomini E dei muli necessari Gli operai si sono rifiutati Di addentrarsi Sulle montagne Per l'irrazionale terrore Di venire posseduti dai demoni Nemmeno un aumento Di due dinari a persona È stato sufficiente A convincerli Abbiamo lasciato Il secondo generatore E la radio di scorta Alla gente Dovremmo essere da te Entro il 18 Cordiali saluti Aline Journeux Quindi questa Aline Journeux Che io credo Sia francese Mi viene da pensare O di origini francesi Probabilmente Era una delle ricercatrici Che era stata qui Negli anni 40 Sai che credo che ai tempi Si diceva questa mia Ah si 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 O come con la presente Eccetera Come no Tolgo il spoiler subito Come Grey Mi tradisci così Mi tradisci così Marrano Ok vabbè E cosa abbiamo Illuminato qui Perché volevo dare Un'occhiata Vediamo la tenda Là in fondo Se c'è qualcosa Marrano E' vero Sei un marrano Grey Oltre che un minchione Sempre detto Con affetto Ovviamente Lo sai Ci mancherebbe altro Allora Vediamo qui Diario Di Randolph Odg Odgson Odgson Mamma mia Odgson Odgson Randolph 24 Oh Andiamo C'è C'è Ma che musica Che c'è Di sottofondo La nostra Luna di Biele Si terrà In un polveroso Sito di scavo Sui monti Zacaros E tra l'altro Ok La stessa cosa Curioso Un cinegiornale Ciao Trafalgar Matt Ciao Bentornato Benvenuto Benvenuto Bentornato Questo È il gruppo Di persone Che era venuta Qui in spedizione Tutto ciò Mi ricorda Un Un gioco Che ho giocato Recentemente Su Game Pass Di cui adesso Mi sfugge il nome Porca miseria Che è quello In soggettiva Ambientato Su un'isola Indie game In cui anche lì Si Riscopre La storia Di una spedizione Avvenuta Su quell'isola E chissà com'è andata La luna di miele Credo molto male L'espedizione Hodgson Ottobre 1946 Eh sì Quindi quella Aline Jorn Che era qui Era una Della spedizione Hodgson Minecraft No Call of the sea Call of the sea Eccolo il titolo Call of the sea Mi ricorda molto Call of the sea Questa Questa questione Della Spedizione Eh La demo di House of Fascists La demo No Io ho giocato solo Il gioco Uscita una demo Di House of Fascists Perché Sto giocando Per la prima volta Il gioco completo Non sapevo Ci fosse una demo Ok Allora qua abbiamo visto Praticamente tutto Credo Questo l'avevamo Esaminato Credo di sì Vediamo Sì È la maledizione di Akkad L'abbiamo visto prima Pedro hai mai giocato? No no In realtà no Quello che vedete È un'altra persona Qui Io sto doppiando Quel tizio lì Con i capelli bianchi Io non ho mai giocato Io ho la voce narrante Non ho mai giocato Sto scherzando Ovviamente Allora Allora Vediamo Di andare Da Da Eric Perché qua Non credo ci sia altro La tenda L'abbiamo vista Ce n'era una Vero? Sì Ok Dov'è Eric? Vedete cosa mi diceva Esamina il registratore Ok Registratore No Non è qua Non è che sia qua dentro Il registratore Me lo son perso Prima Ok Grandissima però Sta tenda Un sacco di roba In realtà È Cosmos Quello su schermo Che si spaccia Per Fedor Era invidioso Della foto A chioma di Fedor E ha preso Il controllo Oddio Bellissimo Folta a chioma grigia Però Oh Di qua Si può seguire Allora È aperto Però Siamo in un videogioco Questi detriti Saranno Un ostacolo Insormontabile Per i nostri amici Eccoci qua Qua Il registratore C'è anche Della roba Vicino Ah Quella che abbiamo Letto prima Ok 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 A posto A posto Andiamo Non è grigio È argento Platino Sono platinato Platinedro Da quando scopo con Nick Mai È vicino al cuore Dai Romanticismo Su Su Dai Ma Eric Non mi sta Antipatico Alla fine Ancora Che significa Questo anello Ti rivolgo Rece E dai Dai affetto Dai 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 Non gli dico la verità Avrei potuto dirgli la verità Ma Non lo farò Dai No Si è girata Che stronza Lo sapevo Lo preferisci con i pugliali Con i boomerang La verità sarebbe un inizio Aia Non credere non ti conosco Rece L'ha capito Hai mentito sull'accendino E non certo perché fumi di nascosto Eric Dini la verità Non parlo Ammettilo C'è un'altra persona Vero Hai ragione Big sister Hai ragione Che bello sentire Rovatti La voce del professor Rock Che ci racconta Cosa è successo In questo posto E risvegliato Un male antico Una blasfemia Che si manifesta In forme e nature Indescrivibili Per millenni Abbiamo vissuto Come bambini I neri degli orrori Che riposavano Nel sottosuolo Ora Abbiamo spalancato Di colpore morto Per la follia Dopo di non farci tanto Da non posso esimermi Sicilterò Questo luogo Per sempre Per tutta l'umanità Mi dispiace Aia Ecco perché C'erano le cariche esplosive Attaccate Alle pareti Merda Oddio Questo Chi è Oddio E' uno degli iracheni Ore 19.29 Grotta di Sad Passiamo a Jason Mamma mia Loro se la stanno vedendo Oh brutta Che diavolo succede Non lo so amico Non è così che dovevano andare le cose Mi ricevete qui King Contatto contatto Siamo sotto contatto Davvero Alfio Non lo sapevo Faccio morire tutti male Con i pugnali Eric Lo preferisco Gray Qui Mailman 2.1 reale Mi ricevi Passo Se me fosse Sì mi sa anche a me Che era lui Senza gli occhialoni Però C'è qualcosa di semplice Qui Sta scherzando È lì da un secolo Non c'è scelta Lo vedi Ai ya Ai ya Vai Mamma mia Mamma mia Soffoca Ti tengo Ti tengo Ai ya Ai ya Ai ya No dai No 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 Anche perché ho visto Che può accadere Dai Massima attenzione Vai 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 Tirala su No povera No dai Non la uccido No no Non mi va Non mi va Di ucciderla Madonna Basta che non arrivi Quello psicopatico Sì Era la scena Da premonizione Bravo pistacchio E lancia Quel bengala Mamma mia E qua mi sa Che può creparci Fallo per il bene Della live Mi dispiace Mi dispiace Dai 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 No Ma l'ho ammazzata L'ho ammazzata così No 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 Ma c'è ma no Ma Cristo no 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 io pensavo che No non accetto Non accetto questo errore Torno indietro E lo rifaccio Lo rifaccio Lo rifaccio Lo rifaccio No dai Non voglio farla morire così Dai Continuiamo da qua Speriamo che non sia Troppo indietro No 1627 Da poco fa Vai continuiamo No no Non taglio Non taglio Non taglio No perché pensavo che No vaffanculo Ha tenuto la scena Ma no No Perché avevo la live Che mi sembrava Non stesse andando bene Quindi mi sono distratto Un attimo Vediamo se posso Tornare allo scenario Prima Che palle Che palle Che palle Che due palle Tanti bei discosi Ma poi l'ammazza così Poi magari si salva Eh Però Boh Cioè No No Non voglio farla crepare Anzi no Gioca da solo Scusate un attimo Ho sbagliato Carica storia Selezione scene Maledizio Però spiano Perché grotte di sabbia Eh no Ma qua mi fa ripartire Dall'inizio Cavolo No 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 Vabbè Vabbè È andata così Niente No 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 Ah Che palle Che palle Me l'ha salvato Ma no Ma secondo me Non muore Dai Cosa dice Vediamo Eric ha capito Che Rece Stava frequentando Un altro Attento La fune di Rece Per salvarsi la vita No vabbè Non ha sentito L'urlo Quello lì Ma che palle Proprio la fine Lo scenario Vabbè Infatti Non è detto Che sia morta C'erano delle candele E tutte erano accese Le candele rappresentano I personaggi Quindi non è morta Attenzione Lo sapevo Grey E che mi sembrava Che la live Andasse male Per quello Che dire di Jason e Nick Fratelli d'arme Con un passato Assai oscuro Che metterà a dura prova L'amicizia Non dimentichiamo Che hanno già consegnato Alle tenebre Il caporale Merwin E la notte È ancora giovane Il che ci porta A Salim Sembra un tipo Equilibrato Quasi Riduttante Alla guerra No Che per me Non è morta Un destino In fausto Attende I sopravvissuti Bloccati Sottoterra Inviattiti Dal vuoto Una dopo l'altra Le loro luci Si spegneranno Sempre che tu Non trovi Il modo Di salvarli Non sta a me Preoccuparmi Degli affari Altrui Ma la curiosità Tiene alto L'interesse Potrei Permettermi Un consiglio Naturalmente Mi aspetto Che resti Un segreto Tra noi Va bene Si Una scelta Prudente Tutto considerato Tempo fa Incontrai Un poeta Ceco Che seppe Colpirmi Con queste Sagge parole Lunga Impervia È la strada Che dall'inferno Si snoda Verso la luce Ok Grazie Che consiglione Ok Jason Passiamo a Jason Baratro Ore 19.35 No Ma il tizio All'inizio Non è tra i protagonisti Principali Per quello Non c'è la sua candela Per questa ragione Cavolo Si sta andando Molto male Cerca di non peggiorare La situazione Libera la cazzo Di mente Ma è perché Ancora il trauma Di aver ucciso Un innocente Ah ok No Sono Sono i nostri Questi Colonnello È lei Che ne è Direcce Un nemico Ci ha attaccato Ah è mente pure Ma non volevo Farla fuori Si 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 Il tipo doveva Morire per forza Quello della scena iniziale Si Ho tentato Con tutte Lo giuro Con tutte le forze Come ho detto All'inizio Della live I protagonisti Dei prologhi Dei giochi supermassive Sono carne da macello Dobbiamo andare Colonnello Qui è pericoloso Dobbiamo ripiegare Ora Da giù Andiamo Che sfiga Però Che sfiga Davvero Incredibile Tipo Anna e Beth Esatto Esatto In Until Dawn Esattamente Direi di sì Esatto 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 Merwin Credo che sarebbe morto Anche perché era messo Troppo male Era messo Troppo male In effetti In effetti In effetti sì Pistacchio Già tre Se ne sono Due Forse un terzo Se ne sono andati No non Joy Come diavolo Usciamo da qui Dobbiamo isolare Questa zona Stabilire un cazzo Di perimetro sicuro Che ci dia Libertà di manovra Tenente Perché gli irakiani Sarebbero l'ultimo Dei nostri problemi Lei crede in Dio Assolutamente no Inizia a farlo Qui siamo abbraccati Da Non so cosa Tanto non mi crederebbe Comunque Da mostri Venuti da chissà dove Siamo abbraccati Mostri Mostri Ma dai Non farti suggesti Signore Con tutto il rispetto Tenente Siamo intrappolati qui Con un soldato iracheno Forse più Qualunque Cosa hai visto Non esiste Queste statue Nick Torna tra noi E finiscila Con le cazzate Ma dove siamo Di sicuro Non è un silo La missione Un fiasco Sì Mi sa che le armi Di Saddam Il satellite Ricontrollo i dati E miglioro l'algoritmo Sono passati Proprio secondo piano Va bene Dai lucidità Ricevuto Signore Ci ha portato In questo inferno Ora ci fa uscire Vuoi ripetere Lo immaginavo Aia Oggi abbiamo capito Che ogni cosa Per Fedro Viene Eh Eh Ora ciò che succede I due saranno distanti Pensando a morti Dire Ok L'avevo già detto prima Ok 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 Eh la situazione Si fa dura Si fa dura Adesso so che anche Questo commento Verrà Misinterpretato Ok dobbiamo riparare Ancora un generatore Wow Obiettivi molto differenti In questo gioco Uh Ma questa è la stanza Di prima Siamo ancora qua Siamo ancora Nella stanza di prima Questo sarebbe il deposito Di armi di Saddam Eh Nella sala del trono Salve che può Siamo tutti morti Arriva dura Per poi vedere Quanti saluti Al sistema termico Satellitare Di Eric Eric dovrà rispondere A parecchie domande Non vorrei essere Al suo posto Sono un po' Incazzati con lui Anche perché Lo ritengono un po' Irresponsabile Per averli portati In questo posto Diamo un'occhiata Ok Vediamo Mi serve una mano Ci sono Qualcuno doveva stare Antipatico Abbastanza Probabile Coprimo Forse l'Irakeno Che c'era qui prima Potrebbe essere stato lui Se non qualche bestia Nascosta qua Da qualche parte Smettila di cazzeggiare Muoviti Seconda questo cazzeggiato Ben fatto Stai allerta Dropkick qui Mailman 2-1 reale Procediamo dentro Passo Ricevuto Prudenza Ok Dropkick Chiudo Capi divisi Vediamo dove portano Vediamo di localizzare Questo intruso Quello che ha fatto saltare Tutto Potrei andare Di qua No Ci va Stando lui Però è aperta Si prosegue Facciamo un giro Qui A sinistra Allora Per vedere se c'è Qualche segreto Da scovare Come sempre Devo vedere tutto Sì Probabile Eh Infatti c'è un altro C'è un altro libro Appartenente alla spedizione Degli anni 40 Quella di Hodgson Almeno Nick Mi sembra l'unico Che veramente stia pensando Alla questione Invece di pensare Alla missione Punto Sui fatti amorosi Eh però era un po' distratto All'inizio Sia per l'omicidio Che ha compiuto per sbaglio Sia per la situazione Un po' Pericolosa Che si è andata a creare Con Rachel Dei Sumeri Dei Sumeri Scusate Non dei Sumeri Dei Sumeri Di Franklin Levitt Pubblicato da Napier and Brothers Non possiamo leggerlo Vero? No Però È chiaro che qui c'era qualcuno Che studiava Le divinità Sumere Ok Ma cosa ha fatto? Si era buggato Quel balzo Non l'ho capito Vabbè Si era buggato Mi ritorna alla mente Una certa live Su Donkey Kong Eh Come dimenticare Come dimenticare Tutta in trash Grey Come dimenticare Tutta in trash I bei tempi Vediamo qua Di qua Vi prego Notate il filo Vi prego Notate il filo Vi prego Notate il filo Ok Devo notarlo io Perfetto E adesso saltarono in aria No Meno male Sarà del tizio Che ha sparato aerei Lo stronzo Ci vuole morti Dropkick Qui mailman 2-1 reale Non credo Secondo me erano Tracce Cioè Trappole per i mostri Il nostro amico Piacciano le bombe Stiamo bene Ma lei Faccia attenzione Nel caso ci siano Altri regalini Passo Ricevuto Procedo Dropkick Chiudo Sì Immagino Pistacchio Però è per farci Vivere al meglio Quello che stanno Passando i protagonisti Come dimenticare La dolce Sara E la tua bestiebio Non completamente nascosta C'era una virgola C'era una virgola Dunque Una nota 2 aprile 1946 Abbiamo composto La squadra Il primo della lista Era Crow Il bulldog Di Omaha Beach L'abbiamo incontrato Al Cairo Intento a combattere Per soldi In un bar levantino Crow Ci ha consigliato Il leggibile E a Caifa Abbiamo trovato La mia assistente La cuta e curiosa Aline Journa Qualcuno Ha insistito Per portare con sé Il suo consulente Ellis Van Oiten Un archeologo Che conoscevo Per Vai a sapere Con la squadra Al complesso Partiremo Per il Libano E da lì Procederemo in treno Verso Chi lo sa Qui? No Ah bello Comunque qui Abbiamo anche tutto Il racconto Di questa spedizione Del passato Che è quella Che abbiamo visto prima Nella stanza del trono Che abbiamo visto All'inizio del gioco Ci siamo sbagliati Ma per Lady Braccio È comunque Un ritrovamento Epocale Una scoperta Che scriverà I nostri nomi Nei libri di scopo Sì peccato Che Non siano più usciti Da qui Ciao Alice Benvenuta Non mi aspettavo Di vederti Su questa live Benvenuta A ragione The Tempest Scusate Ma Erika Ha detto agli altri due Che ha dovuto Tagliare la corda Nessuna virgola Sì Erika Ha detto Fedora Ma non stavo Guardando Nessun Sentai Stavo Cercando di capire Se la live Reggeva Perché mi sembrava Stesse saltando tutto Sì Erika ha detto Che ci stava un iraccheno E se stava cadendo Ho dovuto farlo Ho dovuto tagliare la corda E mi stava tirando giù Ma io ho sbagliato Mi sono distratto Un attimo Nel momento più sbagliato E ho combinato Il disastro Il disastro Combinato Ehm Arrivo Quando meno Te lo aspetti E ho notato Ho notato Ho notato Era un po' Che non ti vedevo Da queste parti In live Vero anche che Stiamo sempre molto tardi Ehm Nessuna virgola The Tempest Questa cosa Questa diatriba Andrà avanti per sempre Lo sappiamo molto bene Allora Ehm Direi che A questo punto Vediamo Cos'altro c'è In questa stanza Questo è il diario Qui cosa c'è È un manufatto Stasera mi guardo Una questione di tempo Perché mi manca La scena Della sposa In rosso Certo Certo che puoi fare L'ottia Assolutamente Pistacchio Il bello Che devi posizionare Il coltello Sulla corda Quando questo gioco Ti inganna comunque A volte non devi fare niente Ma te lo scordi Eh Ma lo facevano Anche in Until Dawn Sono bastardi Ho postato la prova Su Discord Ok A59 È tipo Una Un reperto storico Catalogato Direi Visto così Cioè Sembra Sembra sia stato catalogato In un certo senso Vista l'etichetta Che c'è dietro Allora Ecco Perché la telecamera Non rimane sempre così Sarebbe molto più comoda Ma veramente Scusate Fatemi guardare un attimo Non c'è un modo Per Perché la telecamera Per gli ambienti stretti Qui è gestita Proprio male È gestita Proprio male Mira visuale Mira movimento Esplorazione normale No 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 Non voglio Osservare niente Schermo Cioè Purtroppo Il problema È che non La telecamera È gestita male Per I luoghi stretti Che presenta Questa nuova iterazione Della Dark Pictures Ok Qua che abbiamo Uh Ok Chi è quello lì però Ma sono due soldati Uno sembra posseduto però I tre golem sono nerfati Suttare di essere Non tornano full vita Tra una battaglia Una battaglia e l'altra Ah dai Davvero Davvero Non fanno Non tornano con la vita Al massimo Dile no death Grazie per aver me l'ho detto Non lo sapevo questo Non avendo giocato Alla versione 3DS Ok Andiamo avanti Però aspetta Non è la strada Che ho fatto Per entrare Questa Eh sì Che è la strada Che ho fatto Per entrare Miseria Dai Dai Levati Nicca Levati E sta in mezzo Ma anche io Lo ricordavo Ci ho fatto caso Ora al terzo match Che Aurum Era a 110 di vita Ma dai Non lo sapevo Non c'è nulla Non c'è C'è qui una cassa Da spostare Ok Vai Continuo a guardare Altri schermi No no Sto guardando Ho lo schermo Della live Qua di fianco C'è della chat Eh forse era un iracqueno Però sembrava Faceva dei versi Da posseduto E che ho due schermi Gray Qua la chat E qua Per quello Ascoltiamo È Joey È Vino What Non può essere Hai sentito anche tu Impossibile Ti dico che è lui È È questo posto di merda Gesù Si è trasformato L'ho visto morire Senza offesa Nick Ma adesso non sei lucido Magari ti sbagli Infatti per me I morti si trasformano Io ho questa sensazione Non lo sappiamo Non abbandoniamo i compagni Semperfi Ga Semperfi Ga Scusate Sono Mi spiegate che succede Molto volgare Crediamo fosse Joey Era lui di sicuro Andremo a salvarlo Ti ricordo che aspetta a me Decidere Vado avanti io Va bene Alan Wake Secondo me sono posseduti Pensando a prima Quando ti hai rilasciato L'ianzio del canale Mi sembra non avessi più la faccia Posso scurrarti in qualche modo Ma sai che potrebbe essere Un processo Di possessione Trasformazione Avrebbe senso Avrebbe un sacco senso Renderebbe il tutto Molto più Più inquietante Ok Dai Vado avanti io Vai Fai l'eroe Jason Potrebbe aver senso Che si trasformino Non è una cavolata Tempio di Salimma No Salimma Nel tempio Alle ore 19.55 Tempio di Salimma Buonanotte Anche se suona bene Questo è ancora incazzato Perché ha accettato Questa missione Che lo sta portando Alla rovina Certo che Salimma È il più sfigato Mi ricordo Until Dawn Quando i Vindigo Facevano voci simili Ai compagni Inganavano i protagonisti E potrebbe essere Potrebbe essere Che abbiano questa capacità Effettivamente Questo Un portafoglio Ma di chi Posso aprirlo Vero Sì Questo qua Mi sa che è quello Che lo aveva Convinto a venire In missione Dar Bene Andare di qua La scala è crollata Lì c'è un buco Per uscire Caspita Gli basterebbe fare due salti Ed è fuori Avesse una scala Sarebbe a posto Il nostro Salim Tanto è rimasto qua Da un po' Perché qui è il punto In cui Era caduto giù Il camioncino Che aveva seppellito Il mostro Mamma mia Ma siamo veramente Sicuri? Siamo veramente Sicuri? Sì La curiosità Però può uccidere Delle volte Io non vorrei dire Ma Ostinazione Eh io lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ma sei un pirla Salim Però Farlo prima Magari di scappare Cioè Veramente Andarsela a cercare E andarsela a cercare Caspita Dai 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 Vai Via 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 Aia Non credo che i proiettili Li facciano molto Uuuuh No 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 Non mi avrai Vai 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 Ma dove è andato Dove è andato Perché è scappato via Non sto capendo Cosa succede Cioè Ma scusa Ma c'hai La possibilità di uscire E vai giù Ma sei coglione Salim Vai 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 Allarma bianca Addirittura Duello Allarma bianca Vai Ma ho messo Ero giusto Dai Ma l'ha ucciso Non si è capita Una mazza Di sta scena Bruttissima Dal punto di vista Delle inquadrature Cioè Non si è capita Una sega Di sta scena Ah Si è bruciato Con la luce del sole Col sole Ok 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 Aspita Ma è Alan Wake Davvero Allora E' vero E' vero E' vero Tempesta solare La fine del mondo Con la luce del sole Avete ragione Bravi Bravi Sì però Non è che si vedesse Bene Cioè Era lì Nell'angolo Si è visto Un po' Di fuoco Ma Questi Sono soldati Americani La luce La brucia Sì sì Sono sensibile Alla luce Sì 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 Assolutamente Vero è vero Quello che dite Arrestatelo Au Bestia 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 Bravo Salim Però Il più cazzuto Di tutti Il più cazzuto Di tutti Salim Anche senza Il suo bel Cappellino Adesso Va bene Proseguiamo La nostra Esplorazione Ce l'hai L'accendino Sì bravo Perché abbiamo Bisogno di luce Qui Vediamo subito È un'altra Un altro oggetto Anche questo R19 Questo foro Deve essere per il sole Ma manca qualcosa Sì è come se Questi oggetti Fossero stati Catalogati Viene da pensare Per il fatto Che abbiano Una sigla Attaccata dietro Sì sì Come se fossero Dei reperti Storici Classificati Che cazzutissimo Come un protagonista Di Di un gioco Horror Che si difende Con gli oggetti Che trova In giro RA9 Il passato Di Detroit Scopriamo Che è un mega pre Quello adesso Grotte di Saber 19.57 Passiamo a Nick Prendiamo Occhio agli angoli Il percorso degli Americans Calizza Joy Stai allerta Va bene Seguardo Fa molto Tomb Raider Last Revelation È vero È vero Anche a me Ha ricordato molto Tomb Raider Last Revelation A livello di atmosfera Sebbene 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 Qui siamo in Mesopotamia Non in Egitto Però le tombe Sotterranee Erano anche Un'ambientazione Ricorrente In Tomb Raider The Last Revelation Quarto capitolo Della serie Non è Joy Anche se È morto Qualunque cosa sia Infatti per me Si trasformano No Vabbè ho sbagliato No no Non siamo in Egitto Siamo in Iraq Forse ti sbagli Sargente Beh so cosa ho visto Insistiamo So cosa ho visto Mio Dio Speriamo sia ancora vivo E c'è da sperarlo Sì Mi spiace signore Per Rachel Eh Sul serio Colcec ha detto Che la chiamavate Grande Strozza Io no Sapevo che non era così Chissà perché Lo sapevi Chissà perché Lo sapevi Nick Io che pensavo Che fossimo In Antartida Non lasciare nulla Ah Gray 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 Pensavo fossimo In Antartida Quanto cazzo È profondo Quel dirubo Ho visto voragini Così alveglia Credo sia stato Il terremoto Ok Andiamo avanti Vai Andiamo di qua Altro sangue Eh sangue Qui è successo qualcosa di poco piacevole Grazie Non l'avrei mai detto Andiamo a vedere Infatti Nick Per me È veramente Il più intelligente In questa banda Di Pirla No Volevo vedere Di là Cosa c'era Certo che qui Veramente Bisogna stare attenti Eh Non perdersi nulla Muoviamoci A Joy serve aiuto Non c'è tempo Ma che cavolo Sei tu Sì sì è possedutissimo Che comandi tu Esatto Vai con cautela Giusto Andiamo con cautela Eh Dai Dai per favore Evitiamo di far cazzate Bentornato Pistacchio Eh Ti sei perso Un combattimento Tra Salim E E uno di questi Mostri Che è stato bruciato Dal sole Chi è Chi ho ammazzato Oddio Mi sa che è Dar Quello lì Mi sa che è Dar È il comandante Di Salim Au Bello che qui I pericoli Sono molteplici Non sono solo i mostri Sì cazzo Qui Mailman 3 A Mailman 2 E uno reale Rispondi Passo Mailman 3 A Mailman 2 E uno reale Rispondi Passo Mailman 3 A Dropkick Signore Mi riceve Passo Oh no Ai 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 Qua è veramente Da paura Sto tunnel Dai Andiamo Qui Stiamo proprio andando A A Infossare Nei recessi Più oscuri Oh mi è arrivata Una granata Che scuterà Il sottosuolo Meglio andarmene Dentro una fesura Casualissima Cosa può andare male Tutto tipo Oh cazzo Oddio ma è Salim È Salim Che brutto Che brutto Fai esattamente ciò che dico O giuro Sottio Ti darò il pasto Sì sì Ti ascolto Salim Eh sono ciechi Quindi Probabilmente Sentono i suoni Bravi Avevate ragione Salim Nel giro di dieci minuti Ha capito tutto Esatto Sì sì È come se fossero vampiri Pistacchio In un certo senso È così Funzionano come i vampiri Hai ragione Tu gli giri intorno E attiri la sua attenzione Poi ci penso io Va bene Facciamolo Abbiamogli ragione Collaboriamo Sono pronto Andiamo Vai Uh Cavolo 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 Ok Massima tensione Dai Mamma mia Esatto Ritting game time Esattamente Ok Mamma mia Ho l'ansia io Mamma mia Che brutto Kingdom Hearts Memory Salim Salim Amai Yakuza Mamma mia Dai Dai Salim Vai 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 Ok Grande Lavoro di squadra Bravissimi 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 Vai 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 Madò Sì è vero È vero Pistacchio Potrebbe starci benissimo È vero Dai Bravi ragazzi Ma Nulla Di simile Memory Of Salim È stupendo Con che cazzo Abbiamo a che fare Con i mostri Sono ovunque Prima d'ora Non ho mai visto Nulla di Così Feroce Quindi Salim Conosce l'inglese No sono ancora Vivi tutti Forse 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 Su un personaggio Abbiamo un dubbio Bentornato Pyro Non so Non gliel'ho chiesto Né tu Credi nei demoni Se me l'avessi chiesto Prima ti avrei riso In faccia Ma ora No I sumeri Narrano Che le anime Dei defunti Sprofondano Fino alla dimora Delle ceneri Dove si nutrono Di polvere Tormentati Da demoni Infernali La ausofascist Del titolo Come te Anch'io ero Scettico Ma guardati Intorno Guarda Dove siamo E cosa Abbiamo visto Siamo intrappolati Nel tempio Sumero Vabbè Dai Facciamo Gli amichevoli Sicurezza Se siamo all'inferno Dovrei dirti Come mi chiamo Mickey Sergente Bello vedere Che nonostante Appartengano A schieramenti diversi Si ritrovino A collaborare Esatto Esatto Alfio La penso come te Ti ricevo Tenente Sì Sembra Claudio Moneta Sono più avanti Passo Ma Era morta D'Arcadia Vey Non può essere Qui E invece E invece E invece No ma mi son distratto Perché non andava Sembrava non andare la live Dai No aspetta Rassicurazione Dai Non ti faranno del male Fidati No non gli devono far del male A Salim È un grande Caspita È il migliore Sì sì è moneta Infatti 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 Si sente Sali mi piace tantissimo Veramente PG che preferisco Dai 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 Non far Cagate Adesso Non mi faccio Ammazzare Da un cazzo No Dai No No Salim Cazzo Cazzo Assomiglia un sacco a Cole Phelps Dio No Cazzarola Puttana Eva Oddio È morto Alan Wake Caspita C'è Eric King Salim Caspita Ma perché Non possiamo lasciarlo Dobbiamo tornare al tempio Eh si è morto Eric Cazzarola Ma così Minchia Oh ma uno come fa a prevederlo Grazie Sono le 22 È già passato un sacco di tempo Porca cialoca Tanto può essere lo schienamento che vuoi Ma se hai un cervello che ci vesti dopo Penta Ma che palle Chissà se Recele è viva No non ci credo Anch'io speravo che non morisse così Dovrebbe almeno rallentarli Credevi tanto americano Un iracheno Ma no Ma no Non volevo far crepare Eric Caspita In sto modo Cavolo Mi ha deluso Salim Era spaventato Poveretto Però Ma se no faccio vivere Salim E faccio crepare tutti gli altri A questo punto Riattiviamo quella trappola Aiutami Eh in effetti Eric ha usato troppo Ma mai come questa Se devo affrontare i mostri Sono felice di poterlo fare con te Vabbè Rassicurazione dai Puoi sempre contare su di me In ogni caso Top 10 Anima Betrayals Vero Arrivo io e muore gente Si è morto Eric Malissimo Ha un Cristo di Copaccio Che dice Tu continui Si in effetti Quanti posti come questo Abbiamo Non dici di nascondersi Queste rovine Stanno meglio nella polvere Perché fai così Loro non volevano la guerra Beh Curiosità Perché li difendi Perché difendi il nemico Sergente Sappiamo entrambi Che non sono tutti nemici Cazzo Jason Ci entra la ragazza Al checkpoint Merda Nick Ancora con questa storia Pensavamo avesse una bomba Era la borsa della spesa Che cazzo Inquietudine La morte di quella ragazza Ti sta scavando dentro Sì Cazzo Infatti è così A te non fa nessun effetto Ho visto cosa hai fatto A quel pastore E il tuo atteggiamento Da duro Non lo renderà Meno sbagliato Ci resta ancora Il lato oeste Occhia aperta Andiamo Siamo di nuovo Nella sala centrale Comunque Le porte sono andate Quei mostri Devono essere passati Con la forza Eh sì Gli ha usato quell'arma Deve averli messi in fuga Per poi essere massacrato Alle spalle Non sono creature stupide Ma predatori Puoi scommetterci Se sono riusciti A passare una volta Possono farlo di nuovo Il Wesker dei poveri Esatto Pyro Esatto Esatto Era proprio il Wesker Dei poveri E' morto con il senso di colpa Per aver ucciso L'amata che forse Non è morta Eh E' vero Rachel non sappiamo Che fine abbia fatto Però il cornuto Se n'è andato Il cornuto Se n'è andato Poverino Ma in un modo Proprio brutto E non mi aspettavo Proprio Che Per una Scelta così Rischiassimo A quel livello Va bene Metti in sicurezza Il tempio Proviamo a scelta Uh 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 Attenzione 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 Questa qui è la stanza Che abbiamo visto All'inizio del gioco Dove sono morti I due protagonisti Del prologo E Infatti Qui Eh eh Guardate chi c'è Questo potrebbe essere Oddio Però un cappello Però un cappello No un cappello No 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 Questo probabilmente E' uno della Della spedizione Di Odson Di Odson Odson Come cavolo si pronuncia Perché A giudicare dal cappello Non è un cappello Di quell'epoca Però questa è la stanza Che abbiamo visto Nel prologo È chiaramente la stanza Del prologo Questa qui Questi sono Membri della spedizione Eh sì 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 A giudicare dal vestiario Dai cappelli Molto anni Quaranta Sì Corpo di sanguato Con strani segni Di punture sul collo Sì 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 Questi sono Chiaramente Sono chiaramente Gli appartenenti Alla spedizione Indiana Jones Credo fosse aspettabile Se pensi ai Diagoli Sì ai diagoli Ai dialoghi prima Eric non ha mai cagato Ciò che diceva Nick E l'altro gli diceva Sempre di distrasse Di pensare ad altro Che tra l'altro In effetti Eric così Non scoprirà mai Che Rachel Lo tradiva con Nick Quindi non c'è neanche Uno scontro tra i due Credo che si possa ottenere In un'altra run Questo tipo di situazione Però qui ce la siamo persa Completamente Vediamo un po' È Rachel quella lì È Rachel È Rachel È ancora viva È ancora viva È ancora viva Ferita ma è viva È ancora viva È ancora viva È ancora viva Quindi L'unico personaggio Che è morto fino adesso È Eric Apparentemente Ok Esploriamo per bene Mamma mia Il framerate Quanto balla E siamo SPS5 È anch'io Anch'io Pistacchio Stava esplodendo tutto Tanfo di morte Ed era disseminato Da essere coperti di mosche Crow pensa Dopo averli derubati Proprio Da per quegli sventurati Viandanti Il terrore Che devono aver provato Non era questo Che voleva mostrarci Tra Spettrale Quando Mary Ha chiesto cosa fosse Lady Bradshaw Ha rivolto Un cenno a Crow Per fargli aprire La cassa di Damite Sembrava più che decisa A scoprirlo Ok Diario di Randolph Abbiamo trovato un passaggio Verso uno strano mondo Sotterraneo L'ingresso emanava Un'aura fosforescente Che investiva Di una luce arcana E sinistra Lady Bradshaw Voleva che scendessimo In profondità Forse Mary Ha ragione Lady Bradshaw Sta diventando Incauta E incontrollabile Ma anch'io Continuo a chiedermi Cosa si nasconda Laggiù Ora sto lavorando Con Crow e Pullman Per costruire Un argano E un ascensore Nel condotto Mi chiedo Quali misteri Ci attendano Nel sottosuolo Indisturbati Dalla vita In superficie Ci siamo persi Una parte del diario Però Cos'è? Mi sa Perché questa è la quarta Qualcosa di strano Di fatto però Sembra essere colpa Di questi avventurieri Se Questi nemici Sono stati liberati Cioè questi mossi Sono stati liberati Io per Rece Il prevedo Droga Servizi fotografici Bondage E sepoltura In una discarica Che cattiveria Grey Sì Mi sa che ci siamo Persi una parte Del diario Porcaccia La miseria Diario di Randolph Parte 4 Parte 1 Parte 2 Eh sì Ci manca la parte 3 Dovrebbero essere Ad occhio 5 parti Forse Peccato Ci manca ancora Un voto di roba Ok Proseguiamo Vediamo cosa c'è Di qua Però devo dire Che comunque Il titolo Rimane immersivo Nonostante tutto È un rullino Cos'è? Ora Ah Sigillo cilindrico Sigillo cilindrico Che raffigura Un'antica città Ok Va bene Va bene Andiamo di qui Allora Eh sì Questo è il corridoio Che abbiamo visto All'inizio Questa strettoia È ottima Salendo dal basso I mostri Saranno costretti A passare da qui Piazzo le cariche? Sì Aumenta la copertura Con le colonne Potrebbero vedere I fili di nesco Per te Loro Saprebbero distinguerli Non sottovalutiamoli Se miniamo i lati Avremo più probabilità Raggio minore Ma cariche meno visibili Tu che dici? Non dico nulla Lascio fare a te C'ha ragione però Dai dai Ascoltiamo Nick Che mi sembra uno intelligente In realtà dovrebbero Allearsi Nick E E Salim E risolverebbero Ora grande il problema Sento il tuo cervello Che macina Che c'è? Dovevamo darle Un secondo avviso Cazzo Non dovevo chiedertelo Sono stanco di parlare È ancora lì Che ci pensa Che dobbiamo dire? Quel checkpoint Era un bersaglio A rischio di attentati Avevamo pochissimo tempo Dovevamo scegliere in fretta E abbiamo sbagliato Ma è tormentato Dal delitto Che ha commesso Perché nessuno Dice la verità Tutti cercano Di accampare scuse È uno dei motivi Per cui siamo qua sotto Voglio solo la verità Uccidere quella donna Mi ha come distrutto E vuoi farmi credere Che non ha distrutto Anche te Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato Semmai usciremo da qui Dovremmo conviverci Se invece moriremo Forse sarà giusto così Come se fosse la pena Per questo grande errore La morte Frequentavo Rece Dici sul serio Aia Tre settimane Ah solo tre settimane E mi è scato Tre settimane di frequentazione Pensavo andasse avanti Da molto più tempo Visto Che Lei era già pronta A dire Alla buonanima Di suo marito Che c'era un altro Nella sua vita Eccola Mamma mia Ma è suo Il sangue o no? No ancora viva Ancora viva Sta un fiore C'era stato convincente Niki Le è passato qualche ora Per convincere noi Oddio Quanto siamo Nelle profondità Qui Ma Tom Hai sangue La discarica Ce l'hai presa Grey Infatti è vero Ce l'hai presa La discarica Bravissimo Grey Eh chiara allegoria Religiosa Mi Il servizio non sarà Bode ma Bode Egi It's a mori time Dio Mamma mia Vai vai Fuggi dal bar Bestia Però Ci sono dei fuochi Accesi Qui sta bruciando Tutto Oh oh No decisamente No Vai 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 Rachel ti prego Mamma mia Siamo veramente Tanto in profondità Qui C'è qualcosa Che brilla Vediamo subito Cos'è Ma Ma è È l'elmo È l'elmo Di Del protagonista Dell'inizio Di Badul Com'è che si chiamava È il suo elmo Questo qui E questa probabilmente È la zona in cui Vengono portati Tutti i cadaveri Di cui si nutrono Queste bestie Elmo antico Di origine sconosciuta Segnato da un profondo Squarcio Eh sì Mi sa che è proprio L'elmo Del Di Badul Com'è che si chiamava Adesso mi sfugge il nome Mamma mia Mamma mamma Traumatico Comunque Ritrovarsi in un posto così Una sorta di tana Probabilmente Animali portano le prede Nelle grotte I resti si accumulano Esatto Esatto Mi sa che siamo Proprio nella tana Delle bestie Uh Vaffan Chiappola Il nido degli alien Eh Rende bene l'idea Sì sì Credo che questa sia proprio La zona in cui I mostri Accumulano i cadaveri Forse Se non avessimo tirato Tagliato la corda Eric sarebbe finito qui con lei Qui serve Don Maul Che ci scavi un bel tunnel Fino alla superficie Altro che Saremmo disposti A sopportare le sue Strimpellate con l'arba Pur di scappare Contato l'estate Magari è qui che compie Un rituale di trasformazione Potrebbe essere Sempre che la trasformazione ci sia Anche se la vedo plausibile Bestia 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 In tutti i sensi Vai 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 Che ansia E che schifo Soprattutto Il viscidume Che trasuda Sta zona È unico Qua? Che diavolo è con la luce? Eh infatti Uh Uh Ciao Sky Ciao Sky Buonasera Buon Halloween A te Ciao Buonasera Buonasera Benvenuta Qui Saliva Abbiamo raccolto e imbottigliato La saliva nera Che rivestiva le fauci Della creatura Estratta dal bozzolo Come le altre persone Entrate in contatto Con gli odori della sostanza Ho sperimentato Palpitazioni cardiache E un acuto senso di terrore Alcuni Hanno denunciato Strani sintomi visivi Come una diversa percezione Dei colori Abbiamo cercato Di isolare Altri campioni di saliva Dal luogo in cui È stata attaccata M L'odore era così intenso Da costringere i presenti A indossare i respiratori Per evitare inconveniente Raccomandiamo L'uso di maschere Durante gli esami Della saliva Sensazioni simili All'effetto di funghi Allucinogeni Psilocibina Mmm 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 Non vorrei Che anche la nostra Cara Rachel Cominci a soffrire Di allucinazioni Visto dove è stata immersa E anche Fetra sintomi visivi Vede estero ovunque Questo è vero Ma magari 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 Ci fosse davvero Momento l'ore Eh sì 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 Momento l'ore E come Qua Mamma mia Lo sento sempre più vicino Lo sento sempre più vicino Ok Qui Perché sta bruciando tutto Non capisco come mai Bruci qua sotto Cioè cos'è che Origina il fuoco Forse mi sto ponendo Troppe domande Ma Oh 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 È sempre più vicino È sempre più vicino Dai 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 Vai Mamma mia Che bastardi Che sono i cutie Oh la Brucia Burn Baby burn Dai 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 Vai Qui se sbagliamo Siamo fregatissimi Oddio Oddio Clarice Cavolo In effetti è vero Clarice Era da un po' Che non la vedavamo Grandissima Clarice Mi stavi sulle palle All'inizio Ma sei stata Providenziale Sì è vero È vero Gray È vero È vero È vero È vero Verissimo Quello che dici Su Emily Ovviamente gas naturali O probabilmente come le candele Accise nelle case abbandonate Atmosfera Esatto Esatto E stica Sì 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 Sono io che mi faccio troppe domande Ma quei cavi andranno da qualche parte Funzioneranno ancora? Mi sa che sono spezzati Cosa c'è? Giratemi Ma che Ma Oddio ma è posseduto questo? Oddio Allora è vera la trasformazione Caspita Avevi ragione pistacchio È verissima la trasformazione E miseria Vai 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 È Joy che si sta trasformando Sì sì Sono persone Allora Sono persone che si trasformano Cazzo Mamma mia Ma sparategli No E buttatelo giù Siete due pirla Forse Small Oh Bravi Mi avete ascoltato Bestia Madonna ma questo è anti il dom per davvero Sì Allora vi dirò Bello da giocare in compagnia ma Little Hope era un livello superiore eh Little Hope era un livello decisamente superiore Meglio di Man of Medan Ma i fasti di Little Hope Qua non li tocchiamo neanche da lontano Anche perché a livello Little Hope era bello perché C'erano un sacco di cose da scoprire Che sembravano non avere senso Non siamo al sicuro Qui invece è tutto Legato a loro che devono fuggire E sopravvivere in sostanza È una trama meno Meno curiosa dal punto di vista della lore Proprio come in Wendigo Originalità Sì ma infatti mi sta ricordando La versione sumera di La versione irachena di Di until dawn Con un'ambientazione meno carina Più storica Come fanno a notarlo Dei centimetri della faccia Che è diverso E lo dimenticano della sua esistenza No no Stavolta non ho cannato Esatto esatto Pairo esatto Ma lo fanno uscire A ridosso di Halloween Proprio per questo Cioè li fanno uscire Nel periodo di Halloween Proprio per giocarli ad Halloween Oddio ma sembra L'alicia Troisi Claris sembra l'alicia Troisi Quella che scrive i romanzi Del mondo emerso Cavolo è identica Andatevela a vedere Ma no Ha cagnato i protagonisti Perché sono scemi Comunque si fa un sacco Fin di Halloween Ma in realtà ormai Giocare a un titolo Della Dark Pixels Anthology È una tradizione Annuale Per Two Times Vabbè Ti ringrazio Ti sono grata Grazie Mi hai salvato da morte Certo Ga Dobbiamo trovare Un'uscita da qui Quindi È qui che ti nascondi Hai delle armi L'Ars of Fears Serve da portare In effetti Ho bisogno di batteri Per la luce Bloober Team Bastava chiedere Ci hai mai pensato Dai Licia Non arrabbiarti Dai ma è la Troisi È identica Solo che non ha gli occhiali Mi deve far male Mi deve far male Sì Parecchio Riesci a stare ferma Sì ma Dalle anche una ripulita Dal sangue Cavolo Dai Apprezzamento Lietta tu sia qui Sì Ma Sono lieta Anch'io Dei Ah il simbolo Che avevamo visto prima Nella casa dei contadini Nelle capanne Quella gente deve vivere Nella valla da moto Cos'ha? Si sta per trasformare Si asce da su Ma non si può salire Deve far male Ma no Cosa te lo fa pensare? Non vedi che sta una favola In effetti Della serie You don't say Credo anch'io Matt Eh ma infatti Secondo me Può essere che Può essere che sia stata morsa Questo Che cazzo Chi è? Chi è? Il Chosen Undead E scopriamo Che House of Ashes Non è altro Che uno spin off Di Dark Souls Sì sì Anche secondo me Potrebbe essere infetta Alfio Mi piaga del dovuto Sì Vero Pyro Grazie Rachel Hai mai pensato Di fare conferenze Motivazionali Scherzi a parte Stai bene Penso che questa Sia la domanda Più stupida Che mi abbiano mai fatto Grazie Divertimento Dai facciamo i carini Cosa vuoi che dica? Non lo so Qualcosa per sdrammatizzare Perché hai studiato fisica? Ma anche la Troisi Ha studiato fisica Davvero la Troisi Ok Perché hai studiato fisica? Tu non Sembri? Non sembro il tipo Non direi Ah già Dovrei vestirmi da nerd Mamma mia Che dialoghi Non intendevo questo È che non dai Quell'impressione Nessuno ha mai pensato Che sarei diventata Una scienziata È una cosa mia Ne so qualcosa Anch'io Ah sì? Vabbè Eh Dai Ho un'altra storia Raccontiamone Non sembri stupida Confidiamoci Lo sapeva Aia 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 Se adesso Ti fanno Empatizzare Con Clarice Prima che Dovrai Ammazzarla Una volta Che si trasforma Aia Aia Oddio Che ti ha fatto Quella cosa Ti prego Ti prego Non lasciarmi No Non dico niente No 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 Guardo e basta Non so cosa dire Mamma mia No dai Non riesco a dire niente Non riesco a dire niente Non mi sembrano Due risposte Corrette Virus T Non puoi abbandonarmi così Minchia se ti fanno Sentire in colpa E ti ha fatto Quella cosa No 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 Ci sono Medicini Starei meglio Ma dobbiamo andare Ora Aia Tu si che sai come Confortare gli amici Ammazzala E basta Ci sta un po' Di grucciatti Esce l'alien Dalla pancia Dammi la mano Stiamo morendo Tu sei fredda Ma perché C'è un po' Di cosi femminile Recitazione 10 su 10 Secondo me La butta Non più Sono spesso I miei Devono i vampiri Sì sì Sicuramente Sicuramente Il Il morso È pieno Di tossine O comunque Può Essere legato Alla trasformazione Adesso vedremo Adesso vedremo Non reggerà Bello il commento Sulla fiamma E la pepsi Greg Pensi davvero Che le medicine Mi aiuteranno Io taccio Non so cosa dirle Eh sì Sì si sta trasformando Chiaramente Se ti trasformi Lo farò io Dai Vai Ok Perfetto Intentai Lei Sherry Birkin Sì sì No In effetti Hai ragione Gigan Hai ragionissima Vediamo Cosa succede Ragazzi È spacciata È spacciata La abbandono Non c'è Non c'è Una cura Non c'è Una cura Sono uno stronzo Lo so Però È spacciata Ragazzi Si sta trasformando Rischio di morire Rischio di morire Io se me la porto Dietro Spero di aver mai Bisogno di te Nella vita Ma sta morendo Grey Sta chiaramente Morendo Poi ovvio Nella vita È diverso Nella vita Ci penserei Dieci volte Ma Sapendo come sono scritti Gli horror Sarebbe stato un peso Portarcela dietro Nick Siamo con Nick 23 53 Sei un mostro Ma no Ma sarebbe morta Sarebbe morta Sarebbe stato meglio Lo so Ma il gioco Non me l'ha permesso Sì certo Avrei fatto anche io La stessa cosa Stiamo divertendo Molto più di noi Lasso Finché festeggiano Tra di loro Ma la stessa Ma no In realtà Non è un atteggiamento Che mi piace Però cacchio Era messa male Sappiamo cosa succede Sarebbe trasformata Non c'è un vaccino Non c'è una cura Sta cosa E abbiamo abbandonato Dietro un personaggio Pyro Perché si stava Trasformando Non potevamo Non potevamo Portarla dietro Qua Uh Uh Ok Il Chosen Undead Abbiamo visto Che può spezzare Il collo Al nostro Nick Che tra l'altro Io credo che quello Sia Il Il personaggio Che abbiamo visto All'inizio Bahadul Lì Bahadul Bahadul Come cavolo si chiamava Dopo averla consolata L'ha abbandonata Su destino Senza neanche Ucciderla Sono così cattivo Cioè Veramente Mi state lasciate Passare come un bastardo Passo qui là per la strada Uh Ciao Dami Buonasera 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 Che piacere vederti qui Benvenuto 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 Sì è molto carino Ma tu avevi giocato Gli altri due Della Dark Pictures Anthology Dami Credo proprio che Lo faranno Dalla voragine Sì Ti senti ottimista Tenente Affrontiamo nemici Che non conosciamo affatto Di numero indefinito E in territorio ostile Che culo Ciao Badios La radio E la sua Speranza La sistemiamo E chiamiamo gli altri Così saremo pari Pedro Infame Ma no No Pistacchio Perché non siamo Tanti oggi Ti fregano sempre Ok Però io volevo un attimo Esplorare Ecco questa cosa Che io non posso esplorare In tranquillità Perché c'ho sempre L'ansia Di dover Cioè che arrivi una scena Un po' mi infastidisce Perché vorrei guardarmi in giro Con Serenità Ecco Quello che non volevo Toccare Mi sono fidato di te Ti ho rivelato i miei segreti Eh si Siamo un pochini Si vede che il gioco Non piace Sono noioso io Può anche essere Dai non fare il novello Solid Snake Sono malvagio È un segnale fantasma Anche senza trasmittente Riceve qualche segnale Sono fantasma Ripara la trasmittente Se riusciamo a lanciare Un segnale Contattiamo il comando Saremo già con un piede a casa Non saprei Non sono un tecnico Se ci fosse Mery Ce la farebbe Mery ne è andato però Beh rassegnati Sì infatti Infatti Pistacchio Dici una cosa giusta Uh c'è Salim Ah il suo comandante Allora ancora vivo Dice Salim si è reso ma ha ucciso Eric durante il successivo confronto Salim è sfuggito dagli americani e è tornato da Dar Ah perché quindi sarebbe potuto alleare con noi Mmm Mmm Sta cosa di abbandonare un'amica senza consare di fronte a nessuno Ma non era un'amica Eh attenzione Non era un'amica Non era un'amica Lei era una sua Una sua sottoposta alla fine Non è che si conoscessero così bene Poi per carità Si stava trasformando ragazzi Questo è il motivo Poi per carità Io sono quello che ha scelto Arcadia Bay In Life is Strange Ma Di salvare Arcadia Bay Io di stupirla non mi fido Bravo 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 Fregatene di sto coglione Che è lui che ti ha fatto Arrivare qua sotto Eh sì sì Grey Cioè alla fine ha senso Ecco se fossimo in un action game Ci troveremo a combattere contro orde di mostri Mentre lui ripara Ah Salim No è Dar questo scusate Non è Salim è Dar Ma che ancora ha il cappello in testa Quello sì anch'io Grey Quello anch'io Dai Salim Fai la cosa giusta Ammazza Dar Cavolo Sì 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 Vero pistacchio Vai no Qua secondo me Faccio una cazzata Se sparo Ho paura che esca quell'altro Però quell'altro è andato via Ok Vai Perfetto Vai Non ho visuale libera Dai 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 Bravo Ecco ti coniglietto Vai Ma ce l'avevo davanti Come fa a esserli dietro Ma gli ho sparato Come fa a esserli Vabbè Pure che esca quella Ciao big sister Bentornata Ma infatti Ma gli ho dato Io gli ho dato il comando Ma non Però mi ha interrotto Mi ha interrotto l'evento Come se avessi dato l'input giusto Aspettate un attimo Che è cavolpata dal film Oh è lei Grande Sei viva Avevi dubbi Marina Dove è Eric E' andato E' morto Era mio marito Dai Incazzati No non è morta Non è morta Rachel Aia Adesso vorrò farlo fuori Di sicuro Non ci speravo Chi altri ce l'ha fatta Cazzo Merwin è morto I mostri Hanno preso Joy Clarisse Clarisse Che abbiamo abbandonato Indietro Cosa c'è Facciamo proprio i bastardi L'ultima volta Che l'abbiamo vista E' stata trascinata Chissà dove Rachel è proprio stronza Comunque Sei un mostro Di nuovo Eh Lo abbandonate Perché si stava Trasformando Povera Clarisse Povera Alicia Troisi No non potevo ucciderla Almeno il gioco A me non l'ha permesso Poi non so Se ci fossero altre Possibilità Più avanti Ma Non partiamo il generatore Senza siamo al buio Potevo abbandonare Dal principio Calci sui denti Sì vero Chi Rachel Sei un mostro Di nuovo Ne sono pipistrelli enormi Quindi in pratica Ah ci sono le telecamere Ma chi le ha messe Ste telecamere Mamma mia Sono ovunque Questamente Se uno fidasse La propria vita A Federer Sarebbe spacciato Definitivamente Ma no ma Non sono così cattivo Non mi scientifico Di quelle creature Pipi schifo Bellissimo Pipi schifo Mi piace un sacco Brava Iblis Ok Questo rallentatore Nick Ah perché È passata lui Dai dai Resisti Ma 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 no Grazie Ci mancherebbe Altro Vai 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 Eh puoi dirlo Ah in effetti Non l'abbiamo neanche vista Usare quella luce Ai raggi ultravioletti Bello questo Cambio Repentino Dei PG Mi pare che ci fosse Anche in In Little Hope Dai Calcione Eh ci vorrebbe Alan Wake Qui per attivarlo Lui che i generatori Se la cava Comunque Questa cosa Delle luci Che infastidiscono i nemici È veramente tanto Alan Wake Sebbene lì si parli Di presenza oscura Io dico che ora È il momento di andarsene Ci sono obiezioni Veramente giocatevi Alan Wake Ragazzi Se non l'avete fatto Quello si che è un horror Figo Più thriller Che horror In realtà 29 euro E 99 Regalato Vero anche obscure Vero vero Grande matta Hai ragione Ma no Perché Razzista Perché Razzista No Eccoli I pipi schifo Mamma mia Trescissimo Comunque Spara Spara Dai Dai Non può Essere così Stronza Fino alla fine Su Vai Ah Non va No No Dai No Parti Maledizione Vai Vai Re c'è il cazzuta Ok Oh Mamma mia Che tamarrata Vai Vai Ok Vai Vai Uh La pistola Di Chekov In effetti Sta mitraglietta L'abbiamo vista Dall'inizio Non è mai servita A niente Si sta avverando Porca loca Quello che abbiamo visto Nella visione Mamma mia Madonna Graeva Non sono così Cattivo Non sono pipistrelli Sono baby dracule Anche nocturne Lo straniero È un fico Quei sono proprio felice Che tu sia tornato Grae in live Pallo Fai Fai morire Tutti Camera sacrificale Ore Mezzanotte e 21 A quest'ora Con bassa risoluzione Riesco La sera Sono troppo Perché no Lo so Purtroppo In effetti Streamo tardi Me ne rendo conto Ascoltiamo Li sentite L'esplosione Ci ha isolati Dobbiamo muovere Dai Sento odore di finale Eh Secondo me Ci stiamo avvicinando Eh Comunque Sono quasi Cinque ore Che stiamo giocando Quindi Secondo me Si Comincia a mancare Poco Ah Infatti Sono contento Ci saranno Molti quality Dai Per una volta Cavolo Uh Ancora Dai Dai Aia Dai ma mettete da parte Potrebbe Stemperare un po' Le vostre Vostre dissidi Ma se il canello Alè Cazzarola E poi vediamo Credo che le nostre Uniformi Stiano rovinando Quello che sarebbe Un bel Bravo Salim Bellissimo discorso Era lui Ha ucciso lui No Rachel No Non far cagate Grave No No Rachel Ti prego Dico di ammazzare Questi patetici Stronzi Almeno questa volta Non sarà alle spalle No dai No 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 Potrebbero essere D'aiuto No Dai Non so che dirti Il loro aiuto Ci servirebbe Dai Sono i nemici Ma cosa vuol dire Abbiamo bisogno Di allearci Tutti Nessuno Di voi No Salim Dai Ho sentito No No Aia Dai per fortuna Mo sono cazzi Seri Si Ma stava morendo Lo stesso Si c'è Claudio Moneta C'è Claudio Moneta Dai per fortuna Non è morto Nessuno Nessuno Non scordo Ciò che hai fatto Al colonnello Non avevo scelta Se non fosse successa Quella cosa Però figo Sono tutti insieme In questo momento Alleati Per fuggire Bello Il messaggio Che c'è di fondo Comunque Nel gioco È che davanti A un pericolo Più grande Le persone Dovrebbero Allearsi Tutte quante A differenza Degli schieramenti Politici Ideologie O quant'altro Parecchio attuale Direi Sono stati bravi A A Nascondere Nel gioco Un messaggio Cos'è Questo più schifoso Al mondo Se non fosse successa Quella cosa Abbandonato Clarice Mentre ti implorava Bello il messaggio Che ti lascia Il gioco Sono una persona Ti chiede Nel dubbio Abbandona Ma Stava per venire Posseduta Mi avrebbe ucciso Lei Mi avrebbe ucciso Lei Rece la vedo Molto rancorosa Eh sì No Jason No 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 Jason No Oddio Eccolo Lì Il fellow One Dead Cosa fai Se non vorreste Per una mica Beh certo Che sì Ma non In quel tipo Di situazione Ma Jason Non credo Che l'abbiano preso Bestia Uh Ok Dar 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 È un ricordo Anch'io Ho pensato A Jason Del figlio Di Ethan Mars Di Di Rain Di Rain Dio Sì sì Per me Questo qua È Badul Eh sì Che è lui Cazzo Lo sapevo Lo sapevo Che era lui Lo sapevo Che era lui Me lo immaginavo Fosse lui Eh Crucifisso Vai Vediamo se funziona Vai Non lo spaventa Mi sa proprio Mi sa proprio di no Ho voluto provare Mi sembrava Troppo banale Il fucile Hai Dai Salimma Aiutami Revendrick Dai Vai Ok Vai È possibile Che nessuno Sia accorto Che Nick È in difficoltà No Madò Volevo vedere Cosa succedeva Col crocifisso Vai Aiutare Rachel No Salim No Vai 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 Però mi sta ferito Cazzo L'artigliato Porca miseria Mamma mia È vero che è Revendrick Cosa Dove è volato Mamma mia Che scena Sono sopravvissuti tutti però Tranne Darmis Ah no E non sappiamo che fine abbia fatto Jason Ricordati di Bram Stoker Darmi sa che è il prossimo Che si trasformerà Jason non sappiamo dove sia In effetti Prima In effetti si è tanto buio Ed è buio anche fuori Con questo cambio di orario È Jason Ok Ancora vivo Ancora vivo Ancora vivo Ce l'ha fatta Non si scherza con i Marine Mamma mia Che eroe americano Qua passiamo a Salim Uh Affronta Dai Però non voglio Dai bravo 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 Da colpa dell'ora legale Solare Siamo entrati nel l'ora Solare adesso Dai no 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 Sei solo Altri superstiti È successo In fretta Siamo solo io e te Solo io e te No è vero Ciao Ricky Buonasera Non ho cattive intenzioni Dai Non intendo farti del male Lo giuro Americani veri Davvero Sono io quello col cuci Dai Jason Non far cazzate Per piacere Cerchi guai Desse all'americano Col fucile Dai Dobbiamo lottare uniti Il tuo amico ha detto Il nemico del mio nemico È il mio amico Dai a Jason Gli sta piacendo Non è sempre vero Ma se vogliamo salvarci Dovremmo lottare uniti Come spada E scudo Troppo poetico Per i miei gusti Jason non far cazzate Per favore Grande 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 Bentornato Meno male Meno male Dai Oh come diamante Perla Ci ho pensato Anch'io Ovviamente Per forza Viene da pensare A Pokémon Appunto Come cazzo Come cazzo fa A farti del male Se sei tu Ad avere il fucile Lui non ha niente Appunto Ok dai Andiamo A vedere Che c'è di qua Se mi viene il sospetto Che tu mi voglia Ostacolare Beh puoi credermi Ti ammazzano Sì Jason Stai tranquillo Ok è vero Ammazzato Secondo te Ho paura Di un soldato Il tuo capitano Comunque si Sono vampiri Sostanzialmente Perlomeno Da qui si capisce Che gli americani Finchè hanno un fucile Non hanno cervello Eh È un po' Una critica È novembre E io in realtà Vorrei che arrivasse Già marzo Non è che sia un fan Dell'inverno Non vedo l'ora di marzo Di quando torna L'ora L'ora legale Io preferisco avere Più ore di sole Ma il buio Non mi fa impazzire Inverno Elsa Beh Elsa Ti riscalda Di sicuro D'inverno Ecco E già si separano Fantastico Ma no Io preferisco Il caldo Cioè il caldo Non quello torrido La primavera È la mia stagione preferita D'inverno Non vado pazzo Ma sarà che sono nato Anche d'estate Quindi sono abituato Cioè abituato Sono O nel sangue L'estate O comunque Cioè che poi Non sono proprio nato d'estate Sono nato alle porte D'estate Ma devo aprirlo Ma devo aprirlo Da questo lato Fai presto I demoni saranno ovunque Secondo te con chi abbiamo a che fare Sono vampiri Sono vampiri Impossibile Eh sì Invece è possibile Mio padre Diceva Che se una cosa Sembra merda E puzza di merda Non c'è bisogno di associarla Per sapere che è merda Cazzo Tuo padre era un grande Salim Sono vampiri Dobbiamo Lottare insieme Per sconfiggerli Sì Sembra proprio Che sia così Vai Ok Ti piace essere notturno No ma a me piace essere notturno Cioè io la notte la adoro Però mi piace avere anche tante ore di luce Quello sì Quello sì Cioè io in realtà sto sveglio fino a tardissimo la notte Non è una questione di Di notturno o non notturno È questione che mi piace avere ore di sole Grazie Comunque il padre del Salim è un grande saggio Se sono nato ad agosto Vorrei essere iberato ogni estate Pensa che questa cosa del cambio d'ora Vogliono abolire in tutta Europa E l'Italia è l'unica contro Vero 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 L'Italia di assurdità ne fa tante Ha ragione Sì sì è come Se vado a dormire presto per due motivi O perché mi capita il sono pesante Oppure il giorno dopo sono a scuola Sì sì ma anch'io Anch'io vado a letto tardi Solitamente Abbracciare mio figlio Salim ma sei un tenerone Veramente ti adoro Cosa farai? Penso che mi stapperà una birra Beh bravo Jason Farei anch'io Controlli i tratti Sì vediamo Scrupolo Maturità Speranza E molto flebile Coraggio Ostinazione Il nostro Salim Ok dai andiamo avanti Tu mi sembri uno con la testa sulle spalle Quindi spiegami Perché diavolo ti si è ruolato con Saddam Per noi Non c'era scelta Fatti Una pagina del diario di Hodgson Morta Sono rimasto con lei fino agli ultimi istanti Chiedendole perdono Luogo per aver dimenticato Per aver anteposto la vanità all'amore Quando alla fine tutto ho capito Che mi ha fatto giurare di seppellire Per esempio questo posto Purtroppo però questo posto Non è stato seppellito per sempre Forse che adori la notte Adorno la notte So che adori però adorno Mi è piaciuta L'Italia va sempre controcorrente Vorrei sapere perché Già 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 Vai Siamo persi un sacco di pagine del diario Però porca miseria A mia moglie Ho scorto un oggetto stretto Tra le sue dita La spilla di Lady Breccio Doveva avergela strappata Quando l'ha assalita Esaminandola Ho notato che somigliava A una delle creature esumate dai mozzoli Erano questi demoni Di cui parlava Mary Lady Breccio sapeva da subito Cosa avremmo trovato qui Il cadavere di Mary si è mosso Non era mia moglie Era una creatura disumana Mi è balzata contro E solo le sbarre della cella Mi hanno risparmiato dalla sua furia Quindi anche la moglie di Hodgson Si è trasformata Come probabilmente tutti I membri della spedizione Comunque sempre colpa Di una certa Mary Nei giochi Quando c'è una Mary Nei giochi horror C'è da aver paura Però cavolo Mi dispiace Perché ho perso Un botto di pagine Del diario Qui C'è non Abbiamo la parte 1 La parte 4 La parte 2 Molto male Molto molto male Sempre peggio Che luna di miele Sì la peggior luna di miele Del secolo Anzi del millennio Oserei dire Qui Che abbiamo Ah un'altra Un altro reperto R32 Vediamo Questa tavoletta di argilla Raffigura un sacerdote Armato di coltello Durante un rituale E associata a un'etichetta numerata Sì sì Questi sono i reperti storici Che stavano studiando Ti mancano tutte le parti contenenti Buone azioni Dai ma ho cercato di salvare Tutti gli altri L'unica che non ha salvato È stata Clarice Ma perché per un motivo Razionalmente comprensibile Si stava trasformando Ci avrebbe uccisi Va bene Va bene Va bene Non ti preoccupare Grazie mille Beh quando Mi ha detto stasera Ti succo il sangue E ci ha dato vicino Mi sa che Era qualcos'altro Che avrebbe dovuto Vabbè ci siamo capiti Non scenderò in dettagli Questa è una tavoletta Dai vediamo Qualcos'altro Sul futuro Questa mi sa tantissimo Di battaglia finale Con militoni Credo che ci farò Un'altra run A House of Ashes In solitaria Giusto per vedere Con attenzione Cosa accade Hai visto Ho visto come ti ha guardato Mentre mollavi la corda E correvi via Mostro Lo so Questa cosa Entrerà Negli annali Ma meglio In questi giochi Divertente Uccidere tutti i protagonisti Dai andiamo di qua Che significano i simboli Sul tuo cappello Per onorare i morti Per questo combatto Per questo combatto Si allagava tutto Quando il fiume era in secca Non c'era acqua E l'uomo aveva sete Ogni volta Gli insetti Ecco Mordevano l'uomo Ma ogni sera Diceva alla moglie Abbiamo tutto Il pesce Del mondo Avete voluto voi La guerra C'è solo Sai parli troppo Per i miei gusti Dai In Iraq Non so se esiste Uh si Certo che c'è Certo che c'è Hanno anche Al Jazeera Che è un canale Famosissimo No no esiste Esiste come la tv Uh Dai Comunque molto più action Dai 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 Sì infatti moneta Beh moneta è Eccezionale Uh Mamma mia Vai Dai 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 Bravo Jason Comunque un tempo Erano umani Questo Questo che fa paura Dai 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 Mamma mia Andato Ma non li uccidi Non li uccidi Non li uccidi I soldi Arina FF7 In Final Fantasy In realtà I nemici che si combatte Spesso e volentieri Vengono combattuti Ma non ammazzati Vengono sconfitti Ma non uccisi Ok Ma come nei RPG in generale Tranne magari le bestie Eh no è tanto bravo moneta Sì sono d'accordo con voi ragazzi Veramente bravo Come doppiatore Signor doppiatore Ok qua Che altro c'è Vediamo C'è niente Un altro buco Però non vedo roba che brilla Quindi presumo che Dobbiamo andare dritti al punto Ah però un attimo Accendiamo Giustamente ho l'accendino Scusate se mi perdo a guardare Ma vorrei cercare Più cose possibili C'è un po' niente Però un po' Troppo diluito Secondo me Potevano farlo durare meno Il gioco Dici Grey House of Fascism Sì è tanto lunghetto In effetti Però secondo me Non ci manca tanto Per finire Credo che In un'oretta Ce la saremo Cavata Perché più o meno Durano sulle 6 ore Però il curatore È apparso pochissimo Rispetto al passato Se vuoi portarti dietro Un candelotto Di 60 anni fa Accomodati È un rischio Ha ragione Ha ragione Salim Ascoltalo Questo È La foto di una statua Note sull'autopsia Nello stomaco dell'esemplare È presente una quantità Spropositata di sangue Gli analisi dei campioni Evidenzano un elevato Contenuto di adrenalina L'organismo Si ciba di paura Terrorizza le vittime Fa entrare in circo L'adrenalina Attacca Ah Quindi vuoi dirmi che È la paura Nutrir Ah le sbarre Questo mi sa che è Hodgson Questo è Hodgson È il cadavere di Hodgson Che ha detto che era dietro le sbarre E che la moglie lo attaccava E lui Freddy Krueger In donna il curatore appare nascosto A pochi secondi durante le scene Alcuni lo hanno notato Davvero? In che senso? Si si intende il gioco Fino a quando non lo finiamo Bob Rock Fino a quando non lo terminiamo Io resto finché non è finito Quindi ancora un po' Che è un'altra pagina del diario Sarà la parte 8 L'accampamento è in rivolta Sono scompassi di lavoratori Lady Brawl Show Ma posso intuirlo Brama lo stesso destino Che vuole essere illeggibile Ok Andiamo Parte 8 Sì si tirata unica Apre per una seconda Dai magari ci penso Se fare qualcos'altro stasera Non credo farò nulla Ma non credo Non si può combattere qualcosa che non vive Non rimane che una soluzione Radere al suolo l'intero tempio Anche a costo di finire schiacciati dalle macerie Non devono uscire da qui Ciao Vince Bentornato 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 Buonasera Ma infatti È quello che stavano cercando di fare Far saltare in aria l'intero tempio Ma abbiamo visto che Non è andata a finire bene Anche da far male di Q8 Tutto bene Tutto bene Vince Grazie Voglio una run in interrotta di Skyrim Anniversary Edition Vuoi tutte le quest principali Secondarie quando esci Non ti devi fermare Prima di finirlo del tutto Eh se trovi qualcuno che va a lavoro a posto mio Grazie volentieri Credo che fosse Durante il combattimento Dove prendono Dar Appare poco nascosto mentre combattono Ma dai non ci ha fatto caso sta cosa Voglio Andrò ad approfondire Grazie Grazie mille Alfio Qua Vediamo Eh vabbè Giro di là allora Ho capito Giro l'angolo Mary Storia clinica Mary Età e sesso Non c'è scritto niente 19-30 Polse e temperatura Pericolosamente elevati Oltre i 38 gradi e mezzo E 170 battiti al minuto BPM La paziente è spesso priva di sensi A tratti si sveglia e grida Sudorazione costante Apporto salino scarso Rilevato movimento sotto la pelle dell'addome In corrispondenza delle ghiandole surrenali R consiglia un intervento di chirurgia esplorativa Ma temo che M potrebbe non sopravvivere all'operazione È quello che stava accadendo Alla nostra amica Che abbiamo lasciato nelle profondità Clarice 20-10 Temperatura 36 gradi Centigrata La paziente si indebolisce Ancora movimenti visibili sotto la pelle Organismo parassita Ora del decesso 20-13 Cioè morta 3 minuti dopo Eh sì E poi si è trasformata Perché lo sappiamo Ma chi è quel pazzo Che appoggia una tazza di caffè Su dei fogli scritti Pazzo Sei un pirla È un pirla Prosegue ma A questo punto Il diario l'abbiamo già visto Non c'è altro Credo da vedere qua dentro Va bene Andiamo di qua Eh credo proprio di sì Speri ancora Possiamo solo sperare Comunque In realtà L'ambientazione è abbastanza affascinante Devo dire Non me l'aspettavo così Ben gestita Certo è più bella della Medana A me la Medana Non era piaciuta per niente Nel primo capitolo Della Dark Pictures Tua moglie Non sapevo che Dark fosse sposato Infatti è Dark Strano come puoi conoscere qualcuno da anni E non conoscerlo davvero Non sapevo che il capitano fosse sposato Sarebbe quello stronzo di prima Sì Non ce l'ha fatta Meglio così Non ho stronzo in meno da liquidare Verrà il giorno in cui Rimpiangerai questo modo di pensare Non ho alcun rimpianto Mi piace come ragiona Salim Mi piace Mi piace Ha ucciso Eric L'unico errore che ha fatto Ma per il resto È il personaggio che mi sembra avere più cervello In questa banda Mi sa che qua siamo nel covo Principale Sembra tanto la luce dell'Ade in Hercules Io non vedo nessun errore sinceramente In che senso Errore in che cosa Stacchio Non può piacerti come ragione Una persona buona Sei tu con l'unico Non è vero Non è vero Il live stream Esatto È il live stream Anzi Sembrano le profondità Dell'albero di IFA Di Final Fantasy 9 Si dà un errore Questa è la cosa che ha fatto Ma povero Alan Wake C'è il personaggio Con la voce di Della voce italiana Di Alan Wake Sono scesi Sì anche C'è sono delicatissimo Eh Di sotto c'è Scar con le iene Anche Anche esatto No No Non scenderemo La sotto Gli archeologi Non sono riemersi Ti dice niente Noi non siamo archeologi Il nostro mondo È sopra Non sotto C'è un esercito di mostri Tra noi e il mondo di sopra Eh E infatti Appunto È un abisso infernale Sarò re Fantastica Cittare leone Villain strepitosi Della Disney Sì Stai dicendo Tiremente Telefrasi Americano Tamarro Sì Caspita È proprio L'emblema Dell'americano Tamarro E patriottico Cosa sta salendo Da lì sotto Aia Aia Stanno arrivando Da di là Dai 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 Sì Non è che sia un'idea intelligente Comunque andare lì giù Non lo so Non lo so Mi sembra pura follia Mi sembra follia Allo stato Oh Eh infatti Eric è morto Che peccato Comunque Eric Aveva già ingannato la morte Lungo quell'autostrada E forse La morte Ha saldato il conto con lui Speriamo Speriamo che nulla Disgradevole Sia accaduto Al sergente Che Disprofonda Nell'abisso Difficilmente Torna in via Bene Jason e Salim Nemici giurati Che non riescono A seppellire L'ascia Se non bene Affondo In una schiena Non vorrei sembrare Un ospite Scortese Ma devo avvisare Che il tempo Stringe Io sarò qui A salutare I tuoi protetti Quando arriveranno Al traguardo Oppure a seppellire I loro miseri Resti Eh Manca poco Mi sa Dai discorsi Del curatore Comunque quattro Ancora quattro Ah Tre settimane prima Camp Slayer Ancora Oh Eric Quante volte Io sono così E questa è la strada Che ho scelto E sono stanca Di dovermi giustificare Sì Questa è la mia vita E decido io Come voglio viverla Esatto Esatto In quattro su cinque Dovrebbe andare Il più in alto possibile Ah ecco come è cominciato tutto Qua è come è cominciata La loro relazione Sembra che qui Ognuno cerchi di fuggire Da qualche cosa Io di sicuro Sei finito nel caos Hai ucciso quella donna Ehi con me Puoi parlare Eh parla male del marito Così lei si Così lei si Si gasa E comunque Tu ce la farai Oppure chiedi E ci pensero io Ecco Ma che Che cavolo Lei si sta udito in culo Anche una biscia più in basso Cerca di sfuggire a Nick Luna e 34 Le notte fonda Mi piace anche che Queste avventure Siano sempre ambientate In un arco di tempo Veramente cortissimo Calma Nick non ci speravo più Non ci speravo neanch'io Baciarla con tutto il sangue addosso Però non è che sia così Emozionante Ora uccide Jason E rimarrà sola per sempre E se lo meriterebbe Uh C'è di nuovo Il nostro Bahadul È Bahadul Com'è che si chiamava? Vedere che è solo un ricordo Se Comunque è bello che Il mostro dell'inizio Sia uno dei cattivi Che tra l'altro Però non si è trasformato È questo che lascia Lascia basiti Cioè Sembra un non morto Ma non si è trasformato Chissà perché Chiudi 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 Può sempre essere Vai 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 Chiudete Chiudete Usa in bolt Sì è veramente veloce Dai È bello incazzato È bello incazzato Ok Molta attenzione Ok Mamma mia Mamma mia Voi c'è non far cazzate Ti prego Ok Con molta calma Molta calma Ma povera Rachel No dai Non voglio che muoia Così male Basta che non mi ammazzino Salim Dai dai Vai via Vai via Vai via C'è andata bene Comunque è vero che tutto ciò Ricorda un po' The Last Revelation Cioè come atmosfera Di Tom Brider Anche se ripeto Qui siamo in Iraq E là eravamo in Egitto E Cambogia Nel prologo Ma se stronza deve morire Qui muore gente innocente Come Clarice E lei deve vivere Eh no Te la sei proprio presa Per Clarice Lei se deve rimanere viva Altrimenti Nick è triste Non voglio Nick Trist Eh infatti Nick Dopo Non puccia più Siamo vivi Ad altri è andata peggio L'importante è che tu stia bene Dobbiamo parlare Se non so La sua espressione Lo so Di noi Voglio sapere Che succede tra noi Se muoio stanotte Voglio morire Sapendo se stiamo insieme Abbiamo un futuro insieme Eh intanto è anche È anche morto Poveretto Tu è morto Eh Rachel Dai Mi ami Chiediamo Tu mi ami Sei un mare insensibile Mi piace E rispondi Sì Dopo tre settimane Dopo tre settimane Sentito proprio Mi Bacio al sangue Buonissimo Non ti perderò Né ora Né mai È Jason È vivo Andiamo L'amore Quello bello Classico Diagono da film Horror Trash Sì 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 Che cazzo di conversazione è in questo momento Sì sì ma ragazzi Dovete considerare che Siamo Stiamo giocando A uno Zeta movie Comunque Struttura ignota Ore 2.21 E siamo sempre più nelle profondità Chissà perché Nei luoghi profondi C'è sempre una luce verde Grey Eh sì 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 Siamo a 3.000 piedi di profondità È tantissimo eh Come i dialoghi di Resident Evil Eh Eh Comunque I tizi della spedizione Erano arrivati fino a qui Cosa c'è scritto qua Registro dei reperti 3 Di Van Oiten Ah è uno del È uno degli esploratori Eh In effetti L'area deve essere abbastanza rarefatta Comunque Mi stacca Però gli spazi sono grandi Quindi riesce Riesce a circolare Ok andiamo avanti C'è C'è altro Che possiamo vedere qui Fatemi Eh infatti Vedete che c'è altra roba qua Andiamo avanti Andiamo Cos'è questo Cosa ci mostra È Salim Quello Vittime di guerra Ah Hai trovato tutte le immagini con cornice nera Davvero Dai Davvero Le abbiamo trovato tutte sul serio Ah con la cornice nera Mancano quelle con la cornice bianca E qualcosa qua nel mezzo Ok Ok Qui siamo presemente Nella gola nera di Dark Souls 2 Ma allora sono americani Rescono a fare tutto con il potere delle stelle e delle strisce Soprattutto queste ultime Questi devono andare in alto e scendere Tu ti fai queste domande in effetti Ora in piena libertà Scatenati Questo perché trovi solo cose perfide Ma non è perfide Qui cosa succede? Se esamino Cosa sta facendo? Dove va? Cosa fa? Aveva Stava facendo quello che gli pareva Dai Fammi riprendere controllo di Jason Fammi vedere qua Cosa fa? Sicuro tornare indietro Che diavolo era? Va bene Va bene Andiamo avanti Tanto indietro non possiamo andarci adesso Sulle strisce torniamo al titolo del gioco A causa paci E non smetterò mai di chiamarlo così Qua? Che è sta roba? Che schifo Ma che è sta roba qua? Che schifo No No Mi sa che non studiano per niente scienze a scuola E l'ho detto apposta Non c'è altro Però caspita Che figata sta grotta Sembra uscita da un gioco fantasy Qui Un altro libro Cos'è? Forse può dirci qualcosa di utile Se lo apri Non lo ha aiutato Ok Vediamo Ah bello Ah Merda Mi sa che questa è la copertina del diario Questa è la copertina del diario Di cui pagine sono state tutte strappate Le abbiamo trovate in giro Mi viene da pensare A questo punto Là che c'è? No gli americani studiano a cazzo che è diverso Ormai mi vedi come un pazzo depravato Questo che è un altro membro della spedizione Chiaramente Mamma mia Un orologio a taschino Ah È Mary Oddio ma sembra Oddio ma sembra la Natalie Portman vista così Al volto di Natalie Portman È pazzesco Con Però in uno stile un po' più Anni 40 Ok Va bene Qua invece Tutti questi Fogli buttati a terra Ha un'altra parte del diario Che parte è? Vediamo Una volta distrutto il tempio Io e mia moglie saremo Mmm Ne devo almeno questo Nel mio orologio Custodisco il ritratto dell'America Desidero ricordare Quel mostro Andiamo Parte 9 Questa era di Lady Prenshaw Sapeva sin dall'inizio Cosa c'era qui Ci ha condotti da loro La trovata di sotto China sul corpo assassinato Di Fanoit Si è voltata a fissarmi E non era più lei La mia mano è scattata verso l'arma più vicina Un picchetto di ferro L'ho pugnalata con la punta di metallo Trapassandole il cuore Alla sua morte Empie grida Sono riecheggiate Nelle profondità della terra Come in risposta Al sangue Che le scorcava dal petto Perché ha torto? Quindi Mary Bradshaw Ma Volevo vedere una cosa Scusate un attimo Nella parte 1 Dove era? Nella Parte 1 Ah però Visualizza video Volevo vedere Di Brescia Adesso Dove era Adesso Di Alessandro Magno Che probabilmente Anche lei Non sapeva In realtà Quello che si trova Qui Fa strano Che li abbia condotti Alla morte In quel modo Che musica E là In fondo Non da cloud C'è anche l'opzione Che lei fosse La prima impossessata E quindi Conceva la gente Qui Però Eh però Come faceva A stare Alla luce Del sole Pistacchio Se era posseduta Non sarebbe Potuta uscire Da qui C'è da considerare Questo Leggermente Dai Silent Hill È molto più Visionario Nelle musiche Wow Clu? No Ma Reno e Rufus Possono punirmi La possiamo Buttare sul paziente Zero Loro non sarebbe Tutto giustificato Potrebbe essere Però in effetti Che sia stata La prima posseduta Anche se però Dobbiamo considerare Che queste creature Erano già presenti Nel 2200 E passa Avanti Cristo Ci vuole punire Tutti Per i peccati Commessi Zain è tutto Quello che mi resta Quando mia moglie Se n'è andata Mi sono dedicato A lui Su figlio Per non fargli Mancare mai nulla Genitore Scimbo Deve essere dura Lo è Ma Mio figlio È il mio orgoglio Andrà a Londra All'università Se smettessi Di rubare Questa mattina Ho trovato La rifottiva Di Zain Ho detto Alla vicina Di riferire A Zain Ero molto Arrabbiato Con lui Le ultime parole Che sentirà Da suo padre Mi manca Da morire Hai la coscienza pulita Gesù Torneranno Che figata D'atmosfera Però qua No è vero ci sono E' vero ci sono pistacche Ho notato anche io Dai Ti copro le spalle Su Collaboriamo Mi piace un sacco Il rapporto Che c'è tra di loro Cioè lo stiamo gestendo bene Fedro Claudio Che alpesterebbe mai Una donna Neanche su richiesta E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero E' verissimo Salim Stai tranquillo Pedro ti salverà Oh si Claudio è troppo soft Le ultime parole famose Più che altro Nessuno li aveva nominato Oltre a me Finora Quindi pensavo di stare prendendo Con la più la vista No 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 Ci sono Ci sono Mamma mia Sembra davvero Di essere nell'albero Di Ifa Di Final Fantasy 9 Selfie A me piace selfie Io So che è impopolare Questa cosa Ma io selfie L'adoro Il manganello elettrico Ragazzi Divertimento assicurato E vedo che A Iblis Piace la violenza Scherzo ovviamente Ci mancherebbe Che cos'è E' un altro Ragcio Trotto Del culo Oh Gray Fox Citazione a Gray Fox Tra l'altro Iblis Io aggiungerei Terra e Seles ma loro sono troppe pure per farlo mi sta dando chiari segni? no, non credo eccolo, lo ricordo quel pugno comunque, tornando serie tornando sul gioco, mi sa che ci stiamo avvicinando lo scontro finale qui mi ricordo anche un po' l'inizio di Alien tutto ciò, del primo Alien vai, esplora l'ignoto trova modo per contrattaccare allora punto chissà se c'è un twistone finale come in Little Hope perché Little Hope chiudeva con un twist narrativo stupendo che non spoiler per chi non l'ha giocato però devo dire che allora, questo gioco è molto bello a livello di atmosfera però Little Hope aveva quel valore aggiunto riguardo alla trama che ci faceva porre un sacco di domande qui invece è tutto abbastanza evidente come siamo finiti a parlare di queste cose mannaggia Grey no Pairo non ti preoccupare tanto questa live poi la ricarico sul canale principale del tubo quindi puoi contarci ok io però prima di andare avanti voglio vedere se c'era altro da esaminare anche se non credo che le pagine del diario siano arrivate fino a qui però qua per dire calati no aspetto a scendere non c'è niente vero no ok ma che è sta roba ma ma sembra tipo un'architettura aliena questa qui stranissimo grazie grazie Pairo grazie mille grazie a te ci vediamo prestissimo buona serata un abbraccio a presto Little Hope era più thriller eh sì sì è vero è vero è vero è vero più thriller più psicologico a me piaceva per quell'aspetto perché io amo più le storie horror con dei misteri da risolvere qui sì è tutto abbastanza chiaro ma qua queste sembrano resti di una civiltà aliena infatti ma infatti per me sono alieni secondo me sono alieni che cazzo è ma questo cos'è ok adesso sono curioso no perché mi interro... sta cosa che devo tenere l'oggetto ma scusate volevo capire un attimo cosa dice di sta cosa strano dispositivo portatile che emette un accordo sonico quando viene toccato apparentemente le creature disponevano di una tecnologia avanzata per creare congegni dall'utilizzo sconosciuto secondo me si parla di di alieni di alieni ok io sono amante del giallo è sempre colpa tua vedi Greg ti hanno già inquadrato tutti sono amante del giallo sì sì ma anche a me piacciono piacciono le storie con un mistero da risolvere o in cui tutto è molto fumoso all'inizio e la storia si dipana e si schiarisce andando avanti si chiarisce anzi più che schiarisce però questo è bello cioè è bello l'unico che davvero non mi è piaciuto è Ben of Medan poi per carità sono trescini eh i capitoli della Dark Pictures Anthology però sono piacevolissimi da giocare in live cioè secondo me sono stati proprio pensati per essere giocati in compagnia non per nulla il il gioco è giocabilissimo in multiplayer che viene sgamato subito il blallo qui che cazzo è sta roba ma che cavolo è oddio ma ma questo è è Curum mi sa che è quello dell'inizio credo sia vivo che a me sta piacendo si si no è carino è carino ma questo è Curum oddio è una sofferenza durata 4.000 anni quindi eh no credo che ormai sarà abituato dico davvero è Curum questa va per fare queste text il rumore attirarebbe i papiri faccio io bravo Salim minchia Salim è veramente troppo intelligente per questo gioco basta Salim best character ma che cazzo dici Jason mi spiace mi spiace però sono sincero che ci siano pochi personaggi femminili in questo titolo cioè i protagonisti sono tutti uomini potevano mettere a parte Rachel però potevano metterne almeno un'altra di ragazza magari dal lato iracheno visto che sono quattro americane e un iracheno potevano mettercela una ragazza in più no no ma è anche per bilanciare meglio cioè in tutti gli altri capitoli della Dark Pictures Antology anche in Antildone erano bilanciati qui sono troppo troppi uomini altra ragazza c'era ma l'ha abbandonata ma non era un personaggio principale Gray lei non era tra i personaggi principali era un secondario chissà perché ti dispiace chi non la vuole chissà chi altro c'era praticamente Gray e The Tempest sono la voce della mia coscienza le voci della mia coscienza un po' è normale sono militari già sarò che ci abbiano messo delle donne sì no è vero è vero però non lo so ci avrei messo qualche altro personaggio chissà per farci no per bilanciare per bilanciare il cast maliziosi che non siete altro marrani che non siete altro ok qua ma che caspita dal 2018 caspita è vero è più di tre anni che ci conosciamo con Gray e con The Tempest comunque l'altra sarà trasformata ma senti quelli fa bene quei lavoroni ora che non prende diretto il sangue eh e gli ha per bilanciare certo sì R assolutamente questa credo di aver schifato forse pure Gray è difficile schifare Gray però ti dico che esiste un modo cioè esiste un'arma cioè l'aglio l'equivalente dell'aglio per vampiri parlando di Gray sono i piedi Gray detesta i piedi parlategli di piedi lo sconfiggete comunque tornando seri chiedo scusa a chi è nuovo e sta seguendo questa live purtroppo capitano cioè purtroppo capitano queste cose fanno parte della nostra community in realtà siamo più seri ma torniamo torniamo a noi ok un cranio salim in questo cranio fossili suggeriscono che i cittadini possano essere stati infettati scusate da un parassita invasivo qualcuno ha bisogno del dentista niente zanna lo vedi lo so è tratturato proprio ovunque come se qualcosa fosse uscito da dentro di questo che vuoi dire ma fa bene pensa l'igiene lui questo è un predator infatti da da la cioè all'aria all'aria di un predator non è non è da negare questa cosa cioè sembra di trovarsi all'inizio del film alien e comunque questa architettura non è non è terrestre qua per me c'entrano gli alieni ragazzi cioè questa sembra un'astronave sepolta eh questi sono alieni cazzo qua ci sono gli alieni hanno buttato in mezzo anche lo sci-fi qua dentro qua c'è ci hanno ci hanno ingannato fino adesso facendoci credere che c'era la storia di mezzo ma in realtà sono alieni sono alieni cazzarola siamo finiti in crisis remastered in crano di yoshimitsu è vero è vero the tempest proprio senso che è la forma dei piedi interessante ora sappiamo come batterlo batterlo in che senso ibris quella fatta col culo non so se è positivo questo sci-fi però dobbiamo vedere dobbiamo vedere andando avanti che cosa c'è mi sa che abbiamo fatto bingo eh credo anch'io ma che caspita è quella roba ma cos'è che twistone allora c'è anche qua il twistone si si è una civiltà aliena un uovo di alien gigante un uovo di Godzilla si sembra un uovo gigante ma do non mi aspettavo questo porca trota perché fermo dai un angeru la punta di un qualcosa sotto delle manzelle di alta stature vedi grey influenzi la chat c'è il predalia dietro l'angolo andiamo avanti cerchiamo di non pestare quella roba a terra va mamma mia vai vai bestia questi mamma mia uuuuh non mi piace pensare di passare qua in mezzo controlla se c'era un bova morente appeso tra lo schifo da qualche parte devo essere riconosciuto in maniera positiva nel grande grey sostanzialmente questo posto è un mix di sceneggiature horror fantascientifiche degli anni 80-90 cacchio si 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 hanno unito hanno unito lo storico all'horror sci-fi non me lo sarei mai aspettato noi non si stanno chiedendo ma no sono troppo stupidi oddio oddio quello è l'antartide ok però l'ambientazione qua è veramente figa c'è niente da dire mi piace qui che abbiamo ah qua ci possiamo calare però voglio prima dare un'occhiata qua in giro infatti come dicevo prima ero convinto di essere in antartide ancora crani vieni a vedere si sono ammazzati a vicenda quasi come i cani fratellici non capisco pensavo che fossero un branco gerarchici disciplinati perché combattono tra loro? tutte le creature del mondo finiscono per lottare tra loro non sono certo siamo di questo mondo beh infatti no infatti non credo nemmeno io siano di questo mondo cioè dai ragazzi è chiaro è chiaro e limpido che qua c'è qualcosa di ben più grande bestia probabilmente questi riescono a infettare gli umani che poi si trasformano dai vai che ripartono le cose sul telefono oh arriva la cavalleria grandi quello era un po' si capisce se è stupido come la merda non ti è piaciuto carnage Venom Venom carnage Grey ci penso io via si si quanto sa di final battle questa qua cos'è un po' oggettivamente schifo è arrivato come la cazza di cavalleria credevo molto ah no è qua è qua Salim ho detto pensavo fosse rimasto con con Rachel fa cagare la merda bello rivederti capo dammi la mano grande pistacchio sei a tantissimo di livello per fortuna sei qui questo posto ah prendiamo il controllo di Rachel dove siamo ci serve un piano fottiamo quei bastardi e andiamocene bel piano in effetti sergente Kay che cosa ci resta vediamo otto caricatori di 5,56 FMG tre esplosivi da 40 mm un paio di pistoli da 9 mm quattro caricatori in tutto li faremo bastare neanche tantissimo e due granate al fosforo no è un panetto di composizione C4 nel complesso non basta abbiamo anche questa è vecchia inaffidabile ah è vero quella che avevamo preso prima le amici sono andate ma possiamo innescarla con il C4 sperando che faccia ancora danni i vampiri provengono da quei bozzoli quanti c'erano in quella grotta migliaia probabilmente li facciamo esplodere ne bruciamo più che possiamo e ce ne torniamo in superficie good idea che urrà convinto oh bravo Jason sì un'occhiata la diamo assolutamente ok parliamo con con Nick dopo oh questa vediamo mentre continuo a scoprire dettagli sulla lingua musicale di queste creature la mia mente si domanda come siano arrivate qui hanno solcato i cieli nell'era dei dinosauri il loro grande impero dominava la terra mentre noi eravamo ancora dei primati appesi ai rami degli alberi ora sono morte la loro forma corporea appare simile alla nostra ma ogni altro aspetto è del tutto alieno rispetto alla vita che conosciamo sì sì sono proprio alieni il pannello mostra quella che sembra essere una costellazione la balena vista dal nostro pianeta forse sono atterrate qui dopo aver attraversato lo spazio profondo che stessero cercando di tornare a casa uh avevamo ragione avevamo ragione parliamo con Nick sei sicuro funzionerà no? sicuro avrei dovuto dirlo prima ma mi spiace sì come no come no grazie lo perci tanto adesso puoi fartela senza problemi io voglio solo volevo solamente dirti che non voglio perderti usciremo da qui lo so mi piace la tua grinta ok vediamo poi che altro c'è da da esaminare questo l'abbiamo visto attacchiamo la torcia questo oh un'altra tavoletta trisom fra lo schifo alieno che cavolo eh? perché c'era Clarice viva? forse però è una cosa che potrebbe su hotel però un attimo un attimo questa cosa mi sembra troppo out of context ma chi è quel personaggio con gli occhiali tra l'altro non è che sia del gioco prossimo sta cosa solo che c'è Clarice eh però c'è Clarice ragazzi quella lì è Clarice e infatti anche a me viene da pensare che se ma Clarice quindi è legata al prossimo gioco è la stessa attrice perché è identica ragazzi è lei è lei ma una volta che dici che ti dispiace inventatela non hai senso di colpa che tu l'hai detto sì in effetti viene taglia tipo con gli occhiali sembra eh infatti infatti sembra il tizio di Little Lope il professore il professore non è che il prossimo capitolo vada a unire tutti i capitoli visti finora anche l'attrice in Man of Medan aaaah è vero quella che fa mi ricordo mi ricordo mi ricordo mi ricordo però cazzo è uguale qui vedremo 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 sono curioso adesso sono curioso sono molto curioso andiamo qui caccia alla vittima introduzione del parassita gestazione del parassita e morte dell'ospite e sopravvento del parassita quindi in pratica abbiamo a che fare con dei parassiti venuti dallo spazio è chiaro ma siamo finiti dalla caverna di Tomb Raider adesso in quell'acqua c'è il vaso di Pandora ma in effetti questo cioè il tempio sostanzialmente era un vaso di Pandora è una giustissima è un giustissimo confronto che fa Iblis perché di fatto è come se avessimo scoperchiato il vaso di Pandora e fossero arrivati i mostri che vi erano racchiusi al suo interno sì sì rende da dio come idea mosi che sono qua da 4.000 anni alla CA di Pullman 9 attrezzature richieste picconi 12 fune minimo 300 metri cassa di compensato per 29 misure esterne vabbè lampade ad arco palanchini maschere antigas evidentemente avevano paura di essere contagiati in qualche modo per quello le maschere antigas qua vediamo vediamo cosa dice cosa non darei per rivedere il sole quello è una birra fresca Rечel sì mi spiace per Eric era una brava persona lo era c'è speranza ok a questo punto c'è anche qua da vedere un'altra pagina del diario immagino sia l'ultima stanno arrivando deve finire qui se avrò tempo userò i miei ultimi istanti per dettare questo diario trovato tra le macerie può servire d'avvertimento a chiunque vediamo l'ultima parte le ossa di questo tempio sono insanguinate abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili per millenni abbiamo vissuto come bambini ignari degli orruri che riposavano nel sottosuolo ora abbiamo smalancato di colpo le porte della follia temo di non farcela ma non posso esimermi sigillerò questo fuoco per sempre per tutta l'umanità Mary mi dispiace peccato però che non sia finita bene perché potrebbe cercare di ripristare tutto andando alla centralina a piedi ah vedo che il buon The Tempest sta cercando di tiltare Grey mi spiace che adesso abbiamo perso completamente il counter del tempo in cui eravamo in live e mi avrà diviso la live in due quindi dovrò editare necessariamente l'episodio che goduria ok qui questo l'avevamo già visto eravamo 5.55 eh infatti infatti ci ha fatto perdere tutto vabbè allora andiamo vediamo di qua vediamo un po' cosa cosa ci dice il nostro Salim va bene Bobrock alla prossima alla prossima alla prossima grazie mille per la compagnia sempre un piacere ti mando un abbraccio a presto grazie grazie mille basta parlare di arti inferiori ma grazie a te grazie a te sai che sei sempre il benvenuto come tutti gli altri comunque mi ricorda tantissimo Call of the Sea tutto ciò è Mary era una pianista la decifrata ha capito che i simboli rappresentano le stelle lo vedi Cetus la balena ma è stati tanto lontano dal cielo è un mistero secondo il diario il dispositivo riproduce un'unica scala di suono ma Mary lo studiava da sola penso ce ne sia un'altra mi dovrai aiutare che posso fare? questa plancia è troppo grande per usarla da soli vai che figata sta cosa vai però un attimo uh che casino ok su ok uh no no vai 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 ok si potevano gestirla un po' più comoda ok vai figata stiamo stiamo suonando della musica aliena in pratica è uno strumento musicale alieno comunque dal suo astio verso gli altri vedori dobbia che Grey abbia i piedi non abbia i piedi con quel persaglio di Paki e farebbe la doccia con il caso è incredibile Mary riteneva che queste creature fossero pacifiche comunicavano usando la musica loro provavano emozioni poi avvenne una tragedia il loro interno tra mondo la musica si interruppe dentro nello scoppio la violenza cosa li colpì un'epidemia la follia che cosa li tramutò da architetti a bestie qualunque cosa fosse li corruppe ora sono che a cure malvage animali colpi morti senza prede da uccidere per cui dormirono in attesa del nostro arrivo qualcuno ci crede non saprei ma su una cosa Mary aveva ragione non c'è nulla di buono forza bruciamo questi stronzi più deciso che mai ma do cripta dei bozzoli sono tutti bozzoli praticamente quelli lì ammassati tra di loro pazzesco mamma mia bisogna bruciare tutto praticamente è l'unica soluzione che disastro che disastro di roba si 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 come se dobbiamo muoverci solo lui ma questa è l'occasione per vendicarci di tutto piazzeremo su quei cumuli tutte le nostre cariche e poi le faremo esplodere dalle moto appena saranno saltate ci fionderemo fuori con un po' di fortuna oltre a freggere qualcuno dei vampiri creeremo un diversivo e se moriamo almeno portiamo con noi qualcuno di questi bastati oddio non si sacrificheranno tutti spero chi andrà a piazzare la dinamette fanculo vado io sei pazzo andremo insieme ma più si è più è probabile che si venga scoperti prendi il detonatore se non torno indietro Nick se io non torno fai saltare le cariche Nick ho l'eroe di turno per tutto il targitto resta in contatto radio e se la radio non prende lancio un brazzo lo vedete e premete il detonatore torna presto e sta attendo siamo intesi grey wow si siamo proprio alla final battle il problema sarà risalire poi ok dobbiamo tenerlo d'occhio lì non capisco cos'è quel punto esamina cosa c'è lì dai cerchiamo di stare attenti e di non far crepare Nick proprio alla fine mamma mia quanti sono ho pensato male di segarmeli via ma purtroppo mi servono addirittura questo odio dov'è qua dov'è primo candelotto piazzato dai 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 prevedo morti anch'io questo è il momento più importante per Nick dobbiamo stare attenti dobbiamo stare molto attenti con sinistra ma ancora qua ma come ha fatto ad arrivare qua come ha fatto ad arrivare qua che gli sta succedendo ma che cazzo sta perdendo sangue che li attira il sangue della ferita di Nick ha risvegliato una creatura della cripta di bozzoli porca miseria eh prima quando sono rimasto ferito usando il crocifisso maledizione allora con calma e attenzione ok mamma mia che ansia che ansia vai ok ma dove si non ti sia risolta contro il karma eh si infatti grey ok meno male meno male non ci ha sentiti mannaggia il crocifisso inutile eh ma io pensavo potesse servire non ho capito perché quell'atto di fede da parte di Nick cioè perché si potesse fare mi incuriosiva l'azione dai dai brucia tutto brucia tutto Nick ciao Cammy buonasera benvenuto 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 che piacere vederti eh puoi dirlo forte eh eh ma siamo degli eroi fino in fondo noi avanziamo noi avanziamo noi avanziamo siamo eroica aspetta non ci sono più i vampirli di una volta grazie cavi buon halloween a te buon halloween a tutti buon halloween a tutti avanziamo avanziamo siamo temerari dobbiamo distruggere grande pedra coraggioso cazzo ho appena mandato Nick a morire aspetta che senso avvertirlo aia aia dai Nick forza crediamo in te che vedete dalsù dai avvisatelo da bravo Salim bravo è un Witcher sì almeno è le palle di dirmi la verità no mi spiace per questo e per il checkpoint aia è la guerra Gesù succede sempre Nick intorno ai venti Nick virago ah green fandango no dai 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 ti prego salvati dai 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 mantieni la calma Nick infatti Nick virago fa una una fine che si merita ah di di con kami non vedo un cazzo con sto verde madonna non si vedeva un cavolo dai 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 madonna speriamo 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 beh c'è il doppiatore di Alan Wake quant'azione in questi cutie minchia 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 straminchia molto bene molto bene forza Don Fedro speriamo bravo bravo Alan Wake ti ha insegnato qualcosa non parlo di Eric King ok ho visto un attimo incespicare la live mi ero spaventato mamma mia che freddo dell'esplosione brutto e mi sa che Nick bye bye proprio proprio brutto sto fuoco bruttissimo questa esplosione Ness mamma mia bestia ma secondo me Nick è andato l'abbiamo visto esplodere neanche della PS sì sì era proprio brutta l'esplosione fatta malissimo povero Nick no però piano attenzione attenzione non è morto non è morto infatti infatti hai ragione Kami no poverino sì fa abbastanza schifo vero pistacchio è vero è quello che dici Kami comunque dai dai oh no no beh epica però eh questa fight arrivamento bussola Balatu Balatu ha bloccato Nick dopo che aveva piazzato altre cariche nella cripta dei bozzoli insomma il Balatu è il il nostro avversario principale il personaggio del prologo no 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 dai no cazzo ci mancava solo sa che non ci salviamo dai 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 forza una chokeslam dai è un ossetto caspita cos'ha no li attira il sangue li attira miseria si era una premonizione bravissimo pistacchio no 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 si è avverata la premonizione cazzo cazzo eh ma l'ha già ucciso porca merda Balatu è un po' malato cazzarola no ma no dai ma allora cioè perché venire fin qua ma minchia dai che palle trago non ti ha insegnato che meno muscoli hai sei più forte vero ma io niente ma cazzo ho fatto anche il qt è giusto vabbè torniamo con jason quanto aria re degli esterni in questa scena è strane quelle gare mi hanno funzionato ma porca miseria quello è salì è ancora vivo beh non fatevi ammazzare salì voglio salì ma almeno no anche salì sì receli in effetti è muta non dice niente è inespressiva al massimo non vorrei aiutare il bastardo che ha ucciso eric si porta no no lo aiuto dai jason non si abbandona nessuno vai vado salì me uno di noi ora i marini non lasciano grande grande no 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 dai grande jason quanto far sopravvivere una veloce a quale il portadiette di nessuno semperfi jason è tornato nella città per salvare salì dai 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 andiamo da salì recel non fa proprio un cazzo potrebbe anche darmi una mano recel ma vai affanculo te chi non ti si manda vai 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 salì bello questo cambio tra i due ok dritto nel cuore perfetto perfetto dai dai bravi di nuovo vai sterminatore ok abbiamo dato un trofeo stia sta crollando tutto che brutte le esplosioni è vero è vero quel tubo li è tutto più vittime di qualsiasi cosa sto d'accordo grey vero è vero ok vai veloce attento jason vai vai grande salim iblis a fedro piace penetrare i nemici con i tubi di ferro eh sia chiaro andiamo via da qui dai via 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 sempre fi dai in tre ci siamo salvati solo che caspita nick mi dispiace quindi essere uno degli uomini direi c'è il porta sfiga i tubi di ferro li troppavano i guendigo è vero nessun ostacolo potrà impedirmi di riabbracciarlo speriamo tranne race sì sì infatti salim è il più forte di tutti era un po' strano race lucida salima a tradimento no beh se lo fa l'ammazzo io dopo dai dai mamma mia di qua presto su tenente cos'ha Jason ma che cazzo oddio è Clarice è Clarice che si è trasformata porca miseria oddio dai 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 ma dove è salim in tutto ciò è proprio Clarice dai 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 ve l'ho detto che non dovevamo tenerla con noi vai vabbè ragazzi dai lo volevate lo volevate se lo merita lo volevamo tutti dai alla fine vendetta fu portata a termine se fossi stato un regista avrei gestito così la cosa ha tentato fino all'ultimo di salvare Clarice cosa ha ottenuto è mica tanto fino all'ultimo vabbè dai siamo noi e salim risucchia nella vita lo sapevo che l'avreste credo di aver visto scene simile se si vede un sito giallo riguardanti due donne non è vero che ha tentato di salvare lo conosci Pedro mi sono cagato addosso revenge eh revenge si via via dai non vedo che ride della morte altrui oltre a rimeso nel cuore a un po' di Walter no no ma io non l'avrei uccisa ma se l'avessi salvata poi uscivano polemiche dalla chat dai 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 tanto sta crollando tutto di nuovo che quasi a livello registico ha senso che si salvino solo loro due è più figo anche per ricordare un po' l'inizio no ce l'abbiamo fatta si siamo fuori zona di atterraggio 5.52 ma perché c'era quell'effetto sul non è che Salim stia male vero e vedi Don Fedor vede più figa la storia con il suo potere di influenza narrativa guardo che è morto vero e serviva per Nick ma Nick è morto quindi può morire eh il il triangolo amoroso se ne è andato tutto siamo vivi siamo vivi cazzo qui mailman 2 1 reale a coiote 2 prova radio passo peccato per Nick cosa ci dice erica ha rifiutato di conoscere il supporto era nella missione il supporto era presente quando i superstiti si sono riemersi in superficie ok però qua non mi pare sia presente adattarsi e vincere ce l'abbiamo fatta cazzo si quanta gente è morta però che pace si si se ti vedono ti ammazzano però devo tornare da mio figlio sarà preoccupato per me ah l'eclissi mi sa che non è ancora finita no non è ancora finita l'eclissi solare minchia che sfiga non è finita no caspita eh lo sapevo io che non era finita così eh volevi bestia lo sapevo io l'eclissi in effetti ancora non l'avevano citata cioè l'avevano citata e ancora non aveva avuto un ruolo nella trama cazzarola eh non è ancora finita forse se avessimo chiamato il supporto aereo saremmo riusciti a scappare infatti abbiamo il tubo oddio quanto fa resistentivo il 4 tutto ciò mamma mia bestia era tutto troppo facile eh infatti matalo chico de puta allora i vostri sono i figli di fem da senso dai dai però loro due sono veramente la best couple di personaggi best duo madonna cioè oh ci sono altri caricatori no bengala esatto no no infatti stiamo attenti stiamo attenti Alfio mi seguo in giro con un tubo uff madonna cosa dici Salim ok allora massima attenzione eh non possiamo sbagliare adesso no no salim dov'è il tubo ma il tubo dov'è Salim vai 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 miseria porca miseria ma sono potentissimi sti nemici ok vai vai jason poi fedro e cosmo della situazione mi piace sto cambio repentino veramente figo vai 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 dai Salim oh la luce del sole meno male durata niente st'eclissi meno male meno male meno male vengono proprio bruciati pazzesco meno male meno male meno male sì sì è vero le eclissi durano un cazzo ma questa durata veramente niente aspettavo durasse un po' di più ah meno male è arrivato il momento di telare e andarsene eh direi di sì direi di sì adesso il sole splende nel cielo penso che abbiamo superato l'ultimo momento difficile devo rivedere mio figlio poverino Salim Salim aspetta cosa eh no infatti infatti Alfion sì era un po' più basso anche perché erano le 5 del mattino ed era già troppo alto per essere le 5 del mattino cioè quasi le 6 del mattino oddio quanto fa fallout questa inquadratura se è ancora finita sarebbe fantastico no credo che sia finita davvero adesso la tua espressione di Salim sembra Sam del signore degli anelli davvero ho fatto caso dovrei rivedere la trilogia tanti anni che non la rivedo dici sì no dai è finita credo spero sì sì è finita verso il tramonto rilevamento bussola cosa si dice Sam è tornato a casa sano e salvo dal suo figlio Salim ok Salim ce l'ha fatta il soldato ragazzi del Phantom Pain eh c'è solo Jason dei nostri che verrà pluridecorato caspita vi vediamo e siamo pronti per l'estazione basta vi vediamo è da solo caspita però due su cinque che schifo è fatto una strada è abbastanza mi dispiace per Nick cavolo sì bello che comunque lo portano a casa e non non si rendono nemmeno conto delle creature carbonizzate che ci sono lì fuori qui mi deve dare il titolo di ultra boss eh sì si è salvato solo lui peccato peccato per gli altri per Nick soprattutto sì 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 eh il triangolo amoroso l'abbiamo distrutto e questo ragazzi era House of Fascists mi sa che siamo arrivati alla fine eh sì eh sì in libertà vissero i vivi e caddero i caduti vero ci ho pensato che io cami niente male hai guidato alcuni dei tuoi protetti alla luce mentre altri hanno ceduto alle tenebre la sopravvivenza esige spesso un costo un costo che altri a volte devono pagare Eric il nemico del mio nemico è mio amico il primo tenente colce che è stato una rivelazione no finalmente ha fatto pace con i demoni che si portava dentro forgiando la più improbabile delle amicizie attenderò con ansia il tuo ritorno forse sceglierò una storia un po' più familiare questa volta in un luogo dove passare una buona notte di sonno ma sappi che ovunque sarà non riuscirai ad andartene facilmente a presto dunque all'anno prossimo all'anno prossimo curatore ci rivediamo tra un anno sempre in questo periodo sempre ad halloween uh attenzione c'è il ritorno a casa vediamo vediamo si è strano è vero è strano Miller Metal Gear uh attenzione attenzione non è finita bene ma hai visto nulla di simile ah ahhh 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 il meglio del meglio o così dicevano cazzo quante volte dovrò ripetere sempre la stessa storia capisco ma il comando deve chiarire alcune irregolazioni quali non c'era niente di regolare l'alleanza con un nemico per esempio voi non c'eravate cazzo quindi i vostri ci massacravano non importava chi fosse ci serviva qualsiasi aiuto sono tornato in quell'inferno per salvare Salim quell'uomo valeva 5 di voi stronzi sempre fin cazzo il sergente che Nicky non ce l'ha fatta ma perchè è tutto isolato che cazzo è successo qui si è una guardia repubblicana deve aver fatto colpo se Colcec è tornato a salvarlo voglio proprio conoscerlo niente da vedere è sparito in che senso è andato prima dell'arrivo dei soccorsi ora sarà oltre confine ma quindi quando c'è stata l'eclissia hanno attaccato anche questo luogo evidentemente era dinamite non si sa come l'abbiamo trovata ah Rachel no no è Clarice è Clarice questa storia ricorda Winterhold qui abbiamo il colonnello King il genio del gruppo ha scoperto più di quanto sperasse ah eccolo qua si almeno in teoria il rapporto dice che li hanno sparato siamo in zona di guerra almeno una morte normale è difeso da Kellos ha scambiato il tempio per un deposito di Saddam che merda di sistema no non direi è stata una bella scoperta una fortuna e tu questa la chiami fortuna? minchia che cinici eh bravi sembra quasi un film dell'orrore hai già letto il suo profilo? si avrebbe fatto strada se non fosse finita qui più che cinici cinici confermato per domenica? Janet cuciniera cinese è confermatissimo non mi abituerò mai a questo lavoro e perché dovrete? almeno questo era certo ah semplicemente ok no non è successo nulla ma hanno portato qui i corpi e anche una delle creature per esaminarla ciò che conta è controllare il flusso dell'informazione certo che si Sky invasioni durante le live di FF7 finale un po' amaro un po' tanto amaro non è finita bene non è finita per niente bene comunque salto i titoli di coda e ci vediamo il trailer del prossimo capitolo della Dark Pictures Anthology dai andiamo subito che sono curioso non è finita per niente non è finita per niente non è finita per niente più oddio ma inquietantissimo e promette da dio the devil in me promette veramente bene questo ecco questo è già un horror che mi intriga di più cioè sembra che il personaggio sarà uno psicopatico totale questo mi incuriosisce assai questo promette molto molto bene molto 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 bene perché si torna sull'or più psicologico che io preferisco in auto fascis abbiamo assistito appunto a un genere horror molto più realistico più materiale e mi è piaciuto devo dire che mi sono divertito a giocarlo poi ero con voi quindi fare la live in compagnia è stato un valore aggiunto però di fatto è promosso sebbene sebbene non siamo ai livelli di little hope che è sicuramente molto diverso ma che ho preferito molto di più perché si si adatta di più al genere di storia che piace a me auto fascis comunque ha avuto anche anche lui il suo bel twistone finale in cui abbiamo scoperto che sostanzialmente queste creature non erano altro che alieni e niente no un bel gioco un bel gioco penso che ci farò un'altra run per cercare di salvare gli altri personaggi allora io non tendo a dare mai voti ai giochi alfio perché per me un voto non significa nulla io posso dire che il titolo mi è piaciuto certi e certi aspetti a livello tecnico non mi hanno convinto troppo il fuoco era fatto malissimo c'erano delle texture sbavatissime e vedere una cosa di questo genere in un'edizione ps5 dà un po fastidio per quanto ovviamente il gioco sia venduto al prezzo budget di 29 euro e 99 per il resto il cast di personaggi nulla di che mi è piaciuto molto salim perché a differenza di tutti gli altri personaggi visti in una produzione supermassive era intelligente e onestamente ripeto è un bel titolo sicuramente migliore di man of medan ma non migliore a mio avviso di little hope io do un voto solo a bell 10 poi e cross gen sicuramente sarà cross gen anche il capitolo futuro perché sarà il season finale della dark pictures anthology quindi sicuramente faranno un capitolo cross generazionale che in quel caso essendo cominciata la serie su ps4 e su xbox one quindi di per sé vi direi che si promosso promossissimo non il tipo di horror che piace a me ma mi ha divertito mi ha fatto passare un bellissimo pomeriggio in vostra compagnia mi incuriosisce tantissimo questo questo nuovo capitolo in arrivo però lo scopriremo l'anno prossimo la parte più bella della live effetto distratto che taglia la corda direi c'è il convinto di tirarla su ovviamente la fedrata doveva succedere anche oggi comunque ragazzi guardo cosa mi ha mandato gray così alla mia reaction in diretta dopo di che sarei per chiudere visto che comunque si è fatto un po tardi e ok gray gray non posso mostrare ciò che mi hai mandato perché se no il il ban da twitch è istantaneo non è un filmato particolare vi dico che ha protagoniste tra bionde ma non ve lo posso far vedere perché se no il canale twitch bye bye con questo me l'ha mandato la la cazza di angelica oddio oddio non posso immaginare comunque ragazzi grazie a tutti per aver seguito è stato un piacere stare in vostra compagnia ringrazio anche gray che è tornato dopo parecchie dirette mancate a farci compagnia è stata scelta accettazione siti no non lo sapevo non lo sapevo vuoi ce l'ho mandato in privato e no non posso condividere neanche su discord ragazzi perché va contro il regolamento di discord non lo posso fare comunque ringrazio anche chi è chi si è iscritto al canale che ha dato la subscription chi ci ha fatto compagnia chi ha followato chi ha lanciato bittini insomma tutti quanti è stato veramente un piacere stare con voi noi ci vediamo la settimana prossima per proseguire o mori con qualche altro contenuto in live ovviamente arriverà su youtube l'episodio 41 di dragon quest 8 che ci ci mostrerà lo scontro finale tra virgolette e niente per quanto riguarda la dark pictures anthology noi ci rivediamo qui tra un anno per giocare il quarto capitolo della serie con questo mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima grazie per aver seguito